Una breve introduzione personale, poi volevo fare qualche domanda giusto per orientarmi sul tipo di esperienza o interessi che avete. Mi chiamo Luca Falciola, sono orato in biologia, poi ho lavorato, ho fatto scuola specialità tra Pavia e Libit, ho appena aperto negli anni 90, poi feci una postdoc EMBO a Ginevra, che interruppi, dopo un anno, perché mi resi conto che in qualche maniera l'attività accademica, il percorso accademico del riciclato non è esattamente proprio il mio e in maniera abbastanza casuale è capitata in una società che adesso non esiste più, che si masserò, no? Forse qualcuno l'ha sentito a parlare, che cercano qualcuno che sapesse un po' giocare con le banche dati, giocare, utilizzare banche dati scientifiche, letteratura, DNA, proteine, chimica, e quello era un po' il mio passatempo, il mio interesse. Nell'epoca in cui si cominciava ad usare l'email, diciamo così, si usava ancora il fax, altrimenti il telex, e poi ho proseguito la mia attività sempre a Ginevra, nell'ambito della proprietà intellettuale per una piccola società, e poi ho lavorato in Francia e adesso lavoro in Belgio come consulente per diverse strutture accademiche e non accademiche. La presentazione la faccio perché ho capito che tutti gli altri relatori hanno fatto in italiano, le slide sono tutte in inglese, le slide, dico, però, rapidamente, sono 92, però sono pensate in modo tale che vengano da stampare due slide per pagina per avere anche una possibilità di leggerlo. Quindi andrò rapidamente, ci sono parte di testo, invece parte che sono dei screenshot prese da documenti pubblici, articoli e così via. Penso che poi dopo tramite l'ordinazione potete avere non solo ovviamente il PDF di rappresentazione, ma anche un file Excel in cui ho messo link internet e alcune, 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 le citazioni di articoli o di altre cose che cito oggi pomeriggio, giusto per avere un minimo di idee. Quindi, scusatemi, vivo all'estero da quasi, no, più di 25 anni, quindi scusatemi tanto faccio errori tra inglese, italiano, perché poi sempre paesi francofoni, quindi qualche volta mi scappa anche qualche parola in francese, qualche formula francese. Per le domande, c'è un coffee break, però, è pensato, come vedrete, ci sono alcuni moduli di questa mia presentazione, quindi alla fine di ogni modulo, eventualmente, possiamo mettere insieme le domande che ci sono. Giusto qualche domanda, allora, life science tutti o... Ok, quindi, medico, farmaceutico soprattutto, o anche microbiologia, no, virologia, cose così. Sì, so. Poi, a livello di brevetti, dopo la presentazione di oggi, stamattina molto utile anche per me, devo dirlo, perché in quanto, ormai sono uno straniero che vive fuori di Italia, che parla italiano, stando fuori da più di 25 anni, quindi su certe sottigliezze del sistema italiano sono un po', come dire, sono un po' uno straniero. Posso dirvi che all'estero le cose non sono sempre così lineare, anzi, non dico più complicate, ma non sono spesso molto più semplici. E, a livello di brevetti, qualcuno è già stato lavorato con un mandatario, ha lavorato... Quindi avete un minimo di, così, di ottica. Adesso, io oggi non citerò articoli di legge, non citerò decisioni. L'idea di che voglio darvi oggi, per passare alla prossima slide, la faccio io? Ok. Quindi questi sono i moduli in cui ho diviso. Dopo la C ci sarà il coffee break, ok? Quindi, volevo giusto dare un infarinato su quello che sono proprio le cose base dei brevetti, che si dovrebbe conoscere, qualche volta mi rendo conto che, ripeto, non solo l'Università Italiana, ma anche altri temi universitari preparano molto poco, per niente, quello cos'è l'oggetto fisico brevetto, come documento da poter capire e utilizzare, prima di tutto come utilizzatore delle informazioni che c'è in questo domani brevetto, ed eventualmente, se siete interessati a scriverne uno vostro, o per la vostra società, la vostra università. Quindi, come è strutturato? Perché non è un articolo scientifico, non è una pagina internet, quindi è un documento che è un po', come dire, per molti è veramente... Io invio il link a un brevetto e il ricercatore mi dice, ah ma no, 70 pagine, 80 pagine, 40 pagine di figure, che cos'è questa cosa qui? Quindi cerco di darvi qualche indicazione di come approcciarsi a questa cosa. Cos'è la patent information, o l'informazione virtuale? Cerco di darne una definizione che sarà, anche sotto profilo pratica, spero, più interessante, perché ci sono diversi elementi che entrano in gioco, che sono commerciali, legali e scientifici. Quali sono le banche dati principali? Farò proprio una... ce ne sono tantissime, con tutte le possibilità immaginabili di scelte, quindi non si può fare in due ore, in mezz'ora, tutto quanto, però almeno per darvi qualche parametro e qualche indicazione che potrebbe esservi utile. Le strategie di ricerca, come cerco per certe cose e adesso come faccio per altre, ok? Se il mio scopo è uno, faccio le cose in maniera diversa. E poi è quello che chiamo le pati info alternative sources. È stato citato veramente anche da Granieri, tutto quello che sono informazioni brevettuali che vengono fuori, non da documenti brevettuali o bancari brevettuali. Ci sono delle cose che penso, soprattutto voi, nella vostra attività, potrete anche essere interessati anche come buone pratiche eventuali nella vostra attività, o semplicemente per vedere se un vostro collaboratore, o qualche società, o qualche altro professor universitario, gioca la maniera, si parla, il documento segreto da Granieri, i brevetti sono segreti ma fino a un certo punto. Quindi cerco di andare avanti, andare avanti, no. Questo per andare, ok, ok. Allora, non vado, no, no, questi sono due strati, questo è un documento, tutto quello che cito è disponibile in internet, più o meno facilmente. Il primo documento viene da un report vecchio, ma che però è ancora molto valido come forma mentis. Cosa serve un brevetto? Questa frase che ho trovato mi sembra molto, molto ben fatta. Questo è l'UTM e l'associazione americana di chi occupa di etnologio transferente in università americana. Non è anche qui dal 2010 e quindi perché è importante a livello di licensing agreement, a livello di cripple competitor, in qualche maniera danneggiare un competitore tecnico o commerciale, ottenere nuove live. Quindi il fatto di poter stabilire una propria attività dedicata al produttore intellettuale è importante perché se non l'immediato, se fate con un minimo di criteri e di discrimini, con costi relativamente ragionevoli si può fare delle cose accettabili agli occhi di un investitore, di una banca, di una società che magari ha 10, 20, 30, 40 anni di esperienza nel produttore intellettuale. Il secondo è invece un libretto fatto da uno di questi grandi uffici legali americani che dice che, a parte gli aspetti con quanto loro sono bravi, belli, forti, intelligenti, dicono poi delle cose interessanti in maniera anche abbastanza sintetica. Quella è una frase che ho sottolineato io, Questa è una cosa che dovete mettere in mente, scusate se è un po' imperativo, però il sistema attuale è per definizione un sistema in cui lo Stato dà un monopolio in funzione che l'applicate, l'inventore, descriva come si fa in modo tale che gli altri lo possano rifare, eventualmente migliorare, chiedere una licenza eventualmente a chi ha depositato o fare il proprio miglioramento tecnologico e dire, no, questo qui ha scritto delle cose che si può fare in maniera più intelligente. Io non sto perché vado sempre indietro. Questo è un altro documento, questo è un documento gratuito dell'ufficio del WIPO, World Intellectual Property Organization, una struttura, un'agenzia delle Nazioni Unite che sono a Ginevra, che è dedicata al proprietario intellettuale, non so se conoscete il sistema PCT, adesso non voglio andare tutti i dettagli regali. Questo è un documento di ormai 6-7 anni fa, che però è ancora valido per tutto quello che riguarda come creare quello che chiamano il Patent Landscape Repoce, come farsi un'idea di tutto quello che è stato descritto in un brevetto per poter definire la propria strategia riguardo alla propria intenzione o il proprio sfruttamento tecnologico e commerciale di una data prodotto o tecnologia. Quindi l'uso dell'analisi dei brevetti può essere presa in conto per 5 obiettivi che a seconda dei ruoli di una società o dell'attività che si svolga possono essere più o meno importanti. Quindi definire quali sono i trend tecnologici che nella misura in cui qualcuno voglia dire io voglio avere un prodotto migliore che sia a livello di research tool farmaceutico o altro, sono esigenze di innovazione ben diverse e addirittura le pratiche, io ho lavorato molto nel settore degli anticorpi e in parte dei vaccini, ci sono delle modi di fare, chiamiamolo così, che sono ben diverse da chi si occupa di oncologia piuttosto che di altri, perché anche a livello anche di sviluppo clinico, rimborso farmaceutico, questo è un argomento molto molto importante, sono tutti degli elementi che a livello di quello che è innovativo o utile vanno di cui tener conto e i brevetti possono essere un indicativo. ovviamente lo portare all'investimento, competitor intelligence, capire chi le società che voi conoscete essere o società che voi non conoscete ma che dovreste conoscere fanno a livello di brevetti. Trasferimento tecnologico, che suona un po' technology transfer, però in qualche maniera è anche capire, e questo è interessante, capire per esempio attraverso le collaborazioni o il co-applicant, si è parlato oggi, stamattina, di quanto società private e universitari possono in caso di collaborazioni condividere la ondash, quindi anche capire chi lavora con altri e su cosa e anche a livello sempre utile, l'esempio del professor Granieri riguardo al farmaco cos'era, per il vostro cancer, non ricordo più cos'è che fosse, che il Giappone, questo geographic profile, se ci sono molte attività virtuali su un dato uso in certi paesi più strutturali che un altro, indica che c'è una richiesta di questi prodotti su questo. Breve visione di insieme, quello che chiamo, lo chiamo io, altri hanno chiamato l'interesse della propria network, cioè i brevetti sono fanno parte di un ecosistema delle proprietà intellettuali in cui ci sono altri elementi, i brevetti lo sapete già a 20 anni, penso, 20 anni dal deposito definitivo, poi sono gli utility models che però, che sono in ambito bio, tech, life science, poco o niente utilizzati, che sono più brevi di durata, più facile ottenere, ma di durata più breve, quindi tempo che il farmaco, il prodotto va sul mercato è già scaduto, perché però su certe applicazioni tipo MedTech non è una cosa di cui non tener conto, se veramente di quello che, conoscete l'espressione time to market? Ok, quindi, chiaramente per un prodotto time to market di 2 o 3 anni e che con alte possibilità che venga rimpiazzato nel corso dei 10 anni, perché si va rapidamente, l'utility model non è da totalmente dimenticare, invece un ambito più biotech o farmaceutico in cui magari sono 10 anni per arrivare alla fase 2, è complicato. Database, c'è anche una direttiva europea su quello che sono le banche dati, non voglio dilungarmi perché è anche lì un ambito in cui non è ancora consolidata la pratica, comunque, l'importanza della gestione dei dati, lo sapete meglio, insomma, da Google in giù, Facebook, quello che volete, ci sono delle modalità con cui i dati che voi create, raccogliete e indicizzate, gestite, prestate informazioni utili, sono proteggibili sotto determinati criteri ben da studiare, che non si possono discutere oggi, comunque, tutto un piccolo, anche i banche dati, senza dover essere discritte in un brevetto, possono essere in parte almeno protette. Trademarks, quindi marchi, anche lì, ne parlerò più tardi perché comunque è una sorta di parallelo sotto quando un prodotto va in fase di sfruttamento commerciale, il fatto che ci sia un brand che sia creato e addirittura il brand anticipa il prodotto, come nell'esempio che vi mostrerò dopo, in qualche maniera la società che già deposita il brand o il nome, prima ancora che potessero il mercato, per essere pronta il giorno, avrete già tutto a posto. Industrial design, che sono paralleli ai tutti i modi, però su tutti gli aspetti estetici, quindi questo non è importante. Importante, comunque, sono i domain names, quindi internet, quindi quali sono i domain che potete proteggere, che come il copyright, cioè in parte il copyright e i trademark sono rinnovabili, la solita storia, Coca-Cola è un trademark da più quanti 150 anni e continua a essere un trademark perché ogni 10 anni Coca-Cola paga le annuità a tutti gli uffici proiettuali del mondo e rinnova, se dovesse qualcuno che si identica, lo potrebbe andare nel pubblico dominio. Penso che sarà così facile e così rapido. Questo lo prendo senza andare in dettagli di queste immagini, magari poi quando è stampata sul vostro schermo, è una cosa che uso sempre perché è veramente interessante perché mostra come tutti questi procedure, che sia brevetti, trademark, database, tutti condividono una sorta di parte centrale, di passaggi comuni, i punti di partenza e i punti di arrivo sono leggermente, ma come in un sistema di trasporto pubblico, il fatto che ci sono diverse linee che si devono interconnettere, che qualcuno nella società sia capace di capire le connessioni e saper vedere quali possono essere le cose da fare o da non fare è importante. La parte blu l'ho aggiunta io, lo metto, perché questa è la parte blu, è quello che io considero quello che in generale, dopo il registration, quindi la concessione, è la parte di esclusività, qui voi potete, voi, la società, insomma, chi ha il titolo per farlo sulla base del proprio trading, ma nel posto brevetto, nel posto database, ha una esclusività da poter difendere in fronte a un competitor, al tribunale, quello che volete voi. E poi c'è quello che qui non rientra, perché se ne è parlato oggi rapidamente, stamattina, lo scritto commerciale, 3Secret, che è una sorta di estensione, che però è un argomento delicato, anche lì l'Unione Europea ha sviluppato tutta una serie di nuove procedure sul mantenimento del 3Secret, lì nel biotech è complicato da gestire, è evidente. Solo le grandi società, quelle che fanno delle grandi attività di manufacturing farmaceutico, si possono permettere, il fatto di dire, ok, io nella mia struttura a Basilea, a Monaco, a Milano, faccio delle cose che non mettono un brevetto, che mi sono estremamente utili, soprattutto, io sto in un argomento, anche se eventualmente deposate brevetto, sono coinvolti in qualche maniera, l'upscaling di un prodotto o di un metodo, da quello che può essere fatto anche a livello di CRO, o CMO, di Contra, quello che è il prodotto finale, è un altro mondo, totalmente un altro mondo, quindi non è semplicemente metto 10, faccio questo, se devo fare 10 volte tante metto 100, no, non funziona così, sono tutta una serie di procedure a livello di, che sia la fermentazione per i prodotti di microbiologia e sono oggettivamente, potrebbero essere, qualche volta lo sono oggetto di brevetto, ma le società grandi che hanno investimenti in questo settore, spesso e volentieri non mettono neanche in un brevetto, loro hanno delle strutture che sono sigillate, rispetto a questo, per poter mantenere, rispetto ai propri competitor, un vantaggio sul fatto che io posso produrre X grammi di questa proteina o di questo principio attivo in un mese, come lo faccio? Non è solo gli affari vostri, però, questo prodotto al 99,99% di purificazione, come parto da questo? Io vi dico da quali prodotti parto, qual è grosso modo il processo e qual è il risultato, come ci arrivo poi sono affari miei. E quindi c'è tutto il discorso che è anche un'ottica di eventuale sviluppo tecnologico, nel caso in cui abbiate attività di collaborazione con società che vi possano dare un supporto di tipo di strumenti, stiate molto attenti, perché il fatto che voi, in qualche maniera, il fatto che il vostro provider, in qualche maniera attui o su vostra indicazione faccia delle modifiche o degli adattamenti, secondo dei casi potrebbe essere interessante da essere gestito al di là di quello del CDA, del Confidentiality Agreement, che si parla stavolta come fosse una sorta di biglietto da visita, che bisogna tenere sempre pronto, ma è una cosa di cui tenere assolutamente sempre in considerazione. Quando il provider, non è che col corriere vi porta lo scatolone o la cassa, se è qualcos'altro, meglio un attimo capire meglio come lavorare con lui. Poi, anche qui, non vado tra tutti i punti, però due o tre questioni fondamentali, quindi quasi tutto è brevettabile, in quasi ogni settore, e soprattutto è un, lavando il brevetto e se concesso il brevetto, è chiaramente uno strumento finanziario base, nel senso che, come ho citato a Granieri, la questione dell'equity, la questione di avere accesso a certi tipi di finanziamenti, è legato spesso e volentieri al fatto che poter dimostrare che oggi non ho, ho zero introiti, se mi date i soldi e vi supportate per cinque anni, vi posso dire che potrei avere qualcosa disponibile, vendibile a una grande società, o che posso sfruttare io, o che posso dare una licenza, poi a seconda dei casi. Allora, sempre il discorso di domanda di brevetto e brevetto, domanda di brevetto, quella che viene poi pubblicata prima, è come se fosse il, voi spedite un articolo a Nature, ok? O a Science, o a Journal Clinical Investigation, quello che volete, però poi loro devono accettare questo articolo. e funziona un po' così nei brevetto, voi potete depositare tutto quello che volete, tutti i giorni potete fare dieci domande di brevetto, ma se non attuate o il mandatario non attua la giusta strategia di scrittura, di procedura, non avrete mai un brevetto, non solo, la patent application, e torniamo al discorso del, dicevo prima della divulgazione di come si fa, a 18 mesi massimo viene pubblicata, in una maniera o nell'altra, che sia il WIPO, che sia l'Europria Patent Office, US Patent Office, viene pubblicata. Quindi se poi, quello che voi, scritto una donna in brevetto, non lo fate, ok? Comunque è fuori, ok? È pubblicato. E punto e basta. Solo dopo sarà, se è concesso il brevetto, sarà ripubblicato come un brevetto, la prima indicazione, la prima, il documento. Quindi l'invenzione è quella che è definita come brevettabile e questo concetto di brevettabilità, anche se ci sono, non so, della modernizzazione a livello mondiale, sono delle differenze spesso abbastanza marcate tra paese e paese, e anche nell'Unione Europea, in parte, quindi il discorso di avere la protezione virtuale in certi mercati va anche legato al fatto di avere un minimo di informazione, di conoscenza di come quel paese e questi brevettuali sono gestiti. Ok? Quindi è un aspetto non secondario. Anche perché il brevetto ha un aspetto territoriale. La donna di brevetto è pubblicata da un ufficio e tutti lo leggono, mentre il brevetto concesso, che tutti lo leggono, ma può essere veramente sfruttabile solo nel paese dove è stato concesso. E un brevetto concesso in Europa, più delle volte, non è diverso da come è stato concesso negli Stati Uniti, come è stato concesso in Giappone o in Cina, perché appunto le leggi, non solo a livello di lingua cinese, giapponese, francese, quello che è, ma perché la legge brevettuale locale può imporre certe cose, piuttosto che altre. E quindi, per esempio, quello che c'è, i standard per la brevettabilità in alcuni paesi, a parte che possa essere brevettabile, per esempio in India, io dopo 20 e passanti sono riuscito ad avere il mio primo brevetto indiano l'anno scorso, perché stiamo in indiano, tutto quello che è farmaceutico, biotech, hanno delle pratiche totalmente diverse. Mentre altri paesi, ci sono il caso, per esempio Sudafrica, che uno ti portava il brevetto è concesso, ci sono veramente gli estremi, oppure il Brasile, il Brasile che fino a poco tempo fa, se una domanda di brevetto era depositata in un ambito farmaceutico, la storia di brevetto doveva passare per l'Anvisa, l'Anvisa è l'FDA, l'Agenzia del Farmaco, quindi immaginate che l'Ufficio Italiano Brevetti trasferisce il file all'AIFA per sapere se qual è brevettabile bene o meno. Adesso forse non funziona più così, c'è stato un po' anche lì alti e bassi, ma in Brasile il singolo persona che aveva la sua procedura di concessione di brevetto che era lenta, poteva far causa all'Ufficio Brevetti, dicendo che l'Ufficio Brevetti era inadempiente, e mi è stato detto da un patentatore brasiliano, o altre società, così dopo vanno al Tribunale, l'Ufficio Brevetti è inadempiente, quindi l'Ufficio Brevetti è costretto a dover dare dentro sei mesi un'opinione sul fatto sia brevettabile o meno. Sono tantissime stranezze di semi, tutto per dirvi come da un paese all'altro, sono delle cose che sono inimmaginabili da fare, voglio vedere qualcuno che fa la causa all'Ufficio Italiano Brevetti o tedesco, invece in altri paesi qualche volta è un obbligo. Ma quando faccio una richiesta di brevetto territoriale, ad esempio in Italia, e non viene trovata nessuna prior art, se poi estendo e qualcuno in un altro paese trova qualcosa, mi invalida di default anche l'altro? Ne parlerò dopo, comunque l'idea è che ogni paese, in teoria c'è questa, sono diverse procedure di armonizzazione a livello europeo e mondiale, l'Ufficio Italiano Brevetti poi si appoggia anche all'EPO, all'Europa Patente, altre cose, ma nel fatto che uno, sono queste procedure di armonizzazione, cioè io posso dare i dati, quello che sono trovato in uno in più, ma poi ogni ufficio fa come vuole lui, ok? Quindi può decidere, quasi ogni esaminatore può decidere se vale la pena o no di rifare la ricerca, ok? Poi c'è il discorso che è stato anche citato, forse anche stamattina da Gradieri, il fatto dell'Istituto Uniti, sono due cose particolarmente, particolarmente di cui non dimenticare, uno è quello dell'inventorship che può essere, invalidare un brevetto, ma è quello che anche lo cito dopo, penso, il duty of candor, cioè che se io, come inventore società, vengo a sapere, qualsiasi mezzo, che sia il rapporto di ricerca dell'ufficio europeo, giapponese, cinese, o che leggo in un giornale, o faccio la mia vena in un newsletter, e vedo qualcosa che è rilevante per la verità del mio brevetto, devo segnalarlo all'ufficio brevettuale americano, si chiama IDS, Information Disclosure Statement, quindi durante la procedura io ho l'obbligo di dire al mandatario americano, guarda, io in Europa ho ricevuto, o in Italia, quello che vuoi, questa cosa, e non solo, questo documento, non solo semplicemente, e sono un discorso della trasparenza del sistema rispetto ad altri sistemi, che l'ufficio europeo, l'ufficio americano e così via, questi documenti qui sono sulla pagina internet, cioè non è una qualcosa che rimane tra voi, il mandatario e l'ufficio, no, in alcuni paesi è ancora così, tutti gli asiatici, che è un mondo ancora a parte per certe cose, ma l'ufficio europeo, l'ufficio tedesco, francese, americano, canadesi, così via, come se avessi, facciamo un discorso degli articoli e della peer review, è come se voi seguiste giorno per giorno quello che il reviewer e il first author comunica, è su internet, quindi che sia l'AIDS, che sia un'informazione sugli inventori, che sia un'informazione anche tecnica, che viene fornita all'esaminatore in fase d'esame, va su internet, a meno che non si faccia ricorso a qualche procedura particolare di segretezza, però lo standard, quello che voi inviate, tranne alcuni documenti ben definiti, va sulla pagina internet, tempo una settimana, ok? Quindi, chiunque, ed in secondo modo il discorso stavate si parla di due diligence, ok? La due diligence comincia da Google, ok? Senza andare a fare cose stratosferiche. Quindi, brevetto, tenendo un attimo quello che le parti legali, è un po' più noioso, il brevetto è quello che è chiamato un negative right, un diritto negativo, quindi non è che io col brevetto posso fare le cose, soprattutto nel caso farmaceutico, se non ho l'IFAC mi dà l'ok, se non ho tutte le certificazioni e così via, io non posso fare niente. Solo lo posso fare, dire, se trovo qualcuno che lo fa, posso fare causa, contraffazione, a limite ex-dipendente che rifà le stesse cose in un'altra società, succede molto più spesso di quanto potete immaginare. I Stati Uniti sono una giurisprudenza infinita riguardo a questo, è uno degli obiettivi in caso di guerra tra società, è proprio quello di andare a vedere chi eventualmente il dirigente o il ricercatore che caso vuole è passato da uno all'altra, poi due anni prima la società B viene fuori con un prodotto fantastico, questo è un classico, uno dei strumenti base in questo genere di guerre tra società, l'invenzione è quella definita delle claims, rivendicazione, potete scrivere per 70 pagine, per 40 pagine tutte le figure che volete, le rivendicazioni sono quelle che hanno valore legale, ed è quella la parte che durante l'esame viene valutata nel dettaglio. esiste un sistema che è il PCT, quello che è gestito dal WIPO, è il sistema europeo che tra l'altro adesso copre non solo l'Unione Europea, ma copre Svizzera, Turchia, sono accordi con Cambogia e così via, quindi sono sistemi transnazionali, sistemi di preliminari a un brevetto nazionale, rimane sempre, al primo livello rimane il brevetto nazionale, per cui il brevetto europeo se poi viene validato in Italia sarà discusso da una corte italiana, ed è uno dei grossi problemi per esempio del sistema europeo, per cui se io il mio brevetto europeo lo faccio concesso a Monaco, poi viene validato in Germania, in Francia, in Italia, in Svizzera, quello che volete, c'è una causa, la società X contro la Y, X che ha il brevetto Y che dice che non è valido, per X motivi, funziona la legge nazionale e per cui si possono avere esiti diversi da paese a paese, quindi cose, società che perdono un paese e che vincono un altro, e quindi anche il tutto discorso di dire che prima di andare in questo genere di sistemi che poi possono prendere una quantità di tempo, di soldi folle, se ci si parla prima e si fa un accordo, dice in francese, l'amiable, tra amici, ci evitiamo perdite di tempo, di soldi notevoli. Giusto un piccolo, anzi per esempio una questione territoriale, queste sono le statistiche per numero di depositi per origine della società o dell'inventore, ok? Le sue società, tutto per ricordarvi che, nel caso non lo sappiate, non lo immaginate, la Cina è ormai prima si è un PCT, quindi anche se questo è un dato abbastanza falsato perché qui c'è tutto quello che è informatica e communication technology che loro fanno Huawei o le società cinesi fanno carrettate di domande di brevetto su ogni pizzettino di cosa, Stati Uniti, Giappone, Corea, Germania, Francia, Inghilterra, Svizzera e così via. La Cina è diventata prima nel 2020, nel 2021 ha semplicemente confermato ormai, prima rispetto agli uso, il Giappone ne ha superati 5 anni fa, bisogna perdere gli altri. A livello europeo, a livello europeo non è ancora il caso, anche se si vede, l'unica cinese dal 24% in più di società cinesi che hanno depositato di brevetto europeo, ok? Questo in ogni settore, nel settore di life science non è così, ok? Però è in crescita, è comunque in crescita, stiamo qui a raccontarci storie. Poi ci sono paesi che magari hanno delle performance meno impressionanti, l'Italia non è che ha fatto male, se ha dei 5, poi ci sono altri paesi che anche loro sono in grossi centri di crescita. Questo è quello di tutti i settori tecnologici. Va fatto poi rispetto al proprio settore, è un discorso che può essere un po' diverso. Nel deposito di brevetti la procedura implica, prima di tutto c'è un esame formale, ok? Che tutto sia fatto secondo i crismi e poi dopo, solo dopo ci sarà la claim patentability, quindi il fatto di poter, scusate, solo dopo ci sarà la possibilità poi di valutare. Quindi a livello formale e non può sembrare ovvio, ma non è così ovvio perché spesso e volentieri ci sono problemi che sia di soluzione, che sia problemi di formato che poi implicano ritardi, costi, nel migliore dei casi, nel peggio dei casi, perdita di possibilità di proteggere il proprio lavoro di brevetto. Quindi gli aspetti formali non devono essere che sia a livello di inventorship, quindi chi è l'inventore, quali dati mettere o non mettere, se l'immagine originale è in colori o con una dimensione di testo, bisogna stare attenti che nei brevetti sono delle, può stare solo bianco e nero, ok? Tutto questo genere di dettagli che poi possono essere pagati caramente 3, 4, 5, 10 anni dopo. Quindi, sono volte che è stato concesso il brevetto, potete veramente farne uso, anche se sono quella che è una provvigione, una protection, che però, anche i secondi paesi, dato che sia una domanda di brevetto pubblicata in alcuni paesi, permette a chi ha depositato già di poter pretendere qualcosa da un'eventuale infringe, da un'eventuale contraffazione, però è molto variabile, molto lungo, cioè non è veramente la cosa di cui le società sono, come dire, sono entusiasti di fare perché si rendono conto che poi anche con i tempi della giustizia civile può essere, è più importante avere rapidamente un brevetto che stare a perdere tempo a fare in modo di ottenere dei diritti su una domanda di brevetto che non è ancora concesso. E quindi, come dicevo, i county specific requirements sono ancora estremamente importanti, quello che potete fare in Italia, un'altra cosa potete fare in France, non dico solo, già solo l'Unione Europea, sono delle cose estremamente diverse e soprattutto, una volta che è pubblicata, la gran parte degli uffici brevettuali mettono tutto su internet, quando dico tutto dal documento che avete, la vostra firma su internet. Ok? Cioè, io ho trovato delle cose abbastanza di una nota società di scarpe italiana, che a un certo punto è stato trasferito, immaginate voi per quali motivi, la propria sede dall'Olanda all'Irlanda. Hanno prodotto un documento depositato in un tribunale in Italia, poi in Italia, poi hanno prodotto, e c'è tutto il dettaglio della procedura e di cose anche di come la società funziona. È veramente impressionante. È solo perché l'ufficio lo può brevetti, in caso che la società abbia uno cambio di status, impone di avere una sorta di prova di questa cosa. E non lo so perché, perché penso che potrebbero fare forse in maniera diversa, chi ha deciso di fare in questa maniera ha messo una cosa, chiaramente una cosa da notaio, messa su internet. Quindi anche nell'ottica di eventualmente i vostri discorsi di vedere come fare o come non fare una società, state attenti perché anche il fatto che sia il cambiamento, delle cose più stupide, che sia il diverso indirizzo a cose più sostanziali di status fiscale, passaggio, filiale e così via, nel caso che alla società iniziale si siano collegati dei diritti di potente attuale, che tutto il processo sia fatto in maniera, uno, la più indiscutibile possibile, due, fare in modo di chiarire quali sono le cose che sono realmente necessarie e quelle che invece potrebbero essere coperti da omissi su fare una dichiarazione separata, cose così, perché tutto va sul sito. Non è criticato via Google perché sono dei PDF che non sono ricercabili, però uno va a vedere la società, ha una domanda europea, quello che è il caso lì che era per un, volevo fare un test per una cosa come quella di oggi, la società, e sono andato questa cosa qui, sono andato un po' a risalire, sono andato a questa cosa che mi ha lasciato sorpreso perché veramente c'è delle robe che non sarei mai immaginato a leggere e che poi uno se è un buon lettore di conversione da PDF immagine a testo può chiaramente riutilizzare come preferisce. Quindi, il discorso della confidenzialità della pubblicazione, come dicevo c'è questa regola dei 12-18 mesi che voi avete già sentito stamattina, forse prima che arrivassi o prima, cioè voi avete 12 mesi che è quello, scusate, il primo deposito, ok, 0.0, questi 12 mesi con un sistema che a livello mondiale è riconosciuto, quindi potete fare in tutta l'Italia, 12 mesi per eventualmente decidere cosa fare, quindi fate un deposito italiano, europeo, stati utenze, 12 mesi per decidere cosa fare, lo voglio fare anche in Europa, lo voglio fare negli Stati Uniti, fare come PCT, non solo, in questi 12 mesi posso depositare varianti di questo iniziale testo, ok, varianti, migliore, quello che chiamo io improvement priority periodo, cioè, teoria, non è che la cosa che per esempio a me fa pensare certe volte il fatto che qualcuno, e lo vedo spesso con gli accademici, deposito una priorità, il primo ottobre 2021, PCT o European, US, il primo ottobre 2022, e i due documenti sono, a parte qualche cosa minima, identici. Lì c'è qualcosa che secondo me va un po' ripensato, perché vuol dire cosa? O gli inventori hanno deciso di depositare una cosa che era ormai completa, ma cosa vuol dire completa? Vuol dire che se qualcuno ci è arrivato prima, senza volerlo sappiate, ha depositato prima di voi, e quindi sarà in vantaggio verso di voi, ok? O oppure, se non sto a dare una percentuale, semplicemente l'inventore ha detto, ho fatto sto lavoro 12 mesi fa, sì ho fatto delle altre cose nel frattempo, ma non ho voglia di stare lì, o magari perché non voglio spendere di nuovo dei soldi, non faccio una versione migliorata. Allora, se i due documenti, questo a 0 e quello a 12, sono identici, qualcosa non va bene, ok? O è stato depositato troppo tardi, con rischi di essere anticipati da qualcun altro, o che avete fatto qualcosa che magari potrebbe essere stato interessante da fare, da aggiungere, ma che per X ragioni non avete aggiunto, e che magari dovete depositare un'altra volta il bevetto, o magari non potete più farlo, quindi insomma, questo è un, scusate, ho veramente un disatto. Quindi va veramente pensato bene in questi 12 mesi, è veramente work in progress, in questi 12 mesi ho questa data, cosa posso fare per migliorarla? E vi darò un esempio, parlando di vaccini Covid, per esempio. Poi c'è quello che, una volta che ho fatto con 12 mesi, ok? Non è che è finita lì, ho questi 6 mesi, in cui c'è ancora 6 mesi prima della pubblicazione, non è pubblico, avete solamente il mandatario, voi e l'ufficio italiano, spagnolo, quello che volete. Però questi 6 mesi qui, non potete più modificare questo documento, ma potete, prima che venga pubblicato il primo documento, eventualmente fare delle nuove domande in brevetto, senza che l'altro documento sia totalmente priorato. Questi tantissimi non lo sanno, non lo guardano, quindi mettiamo a caso, ok, prima di 12 mesi non ci sono stati dei grandi miglioramenti, non avete i soldi, quello che volete. Però al 15esimo mese avete un risultato importante, qualcosa che magari va anche un po' a far modificare la vostra visione di quello che era lo sviluppo del progetto. Potete, ed è una buona cosa, depositare una nuova domande in brevetto, la quale potrà non automaticamente rientrare in questa, perché siete oltre i 12 mesi, ma mettiamo se depositate qui a 16 mesi, potete mettere insieme quella depositata a 12, a 16, fare una nuova domande in brevetto e abbandonare la prima. Ok? Quindi, mettiamo a caso, c'è una prima buona idea, 12 mesi in cui le cose vanno, non vanno, sì, aggiungo qualcosa. Poi, per X motivi, a 15, 16, 17, 17 mesi e mezzo, avete qualcosa di importante, visto che l'altra domanda in brevetto, è sempre lo stesso argomento, non è che parlare di cose totalmente diverse, ma sembra che c'è stato qualche sviluppo importante, che non era stato descritto adeguatamente, nell'altra domanda in brevetto, soprattutto nella prima, ma neanche nella seconda, è vostro interesse, anche in maniera così, un po' raffazzonata, ammetterlo prima che la prima domanda venga pubblicata. Questo, quindi c'è questa fase bianca, in cui potete fare tutto quello che volete, ritirarla, abbandonarla, riscriverla, fate quello che volete, ok? E quest'area grigia, dai 12 ai 18, in cui potete, se ci sono cambiamenti, rivalutare, potete abbandonare la prima e fare in modo poi di utilizzare solo la seconda. Un buon mandatario potrà dare, anche a livello di tempistica, anche a livello di tempistica, le buone parametri, però fino ai 18 mesi potete fare un sacco di cose. Dopo i 18 mesi, con la pubblicazione, tutto diventa molto, molto più complicato. Ok? Avete molti più limiti. Sì, ma no, la migliori, poi aggiungi un nuovo, un pezzo, semplicemente aggiungi un nuovo esempio, aggiungi tre nuove figure, non è necessariamente riscriverla, non è, non c'è un problema di riscrizione, il problema è che, se ci sono cose che mancano, puoi aggiungere o riscrivere dove non è necessario riscriverla. proseguendo sulla, quindi, il sistema è tale per cui, che dopo i 30, con il sistema PCD, che dopo i 30, tra i 18 e i 30, c'è questa fase di esame, esame criminale, a cui segue, un esame più dettagliato, a livello di diversi paesi, come dicevo, ogni paese, può concedere un brevetto, a tempi e modalità diverse. Questo è un esempio che volevo prendere, questo qui non è il caso, c'è un altro esempio che ho preso, che è sul CRISPR, penso che molti di voi lo conosciate, c'è stata, c'è ancora in parte, un enorme battaglio di regali tra gli inventori europei e quelli americani, io ho preso per esempio, questa domanda, una delle tante, depositate, dall'ufficio, scusate, dal Brody Institute, negli Stati Uniti, in cui cosa hanno fatto? La prima domanda è un PCT 2014, allora loro hanno depositato, nei 12 mesi, hanno depositato 5 priorità, ok? Hanno ottenuto, o depositato, poi hanno ottenuto i brevetti stand-up-unitensi, oro-cinesi, australiani, adesso non hanno preso tutto, perché non finisce più, hanno dato un europeo, e l'europeo è stato poi concesso, nel 2015, ed è stato posto, ovviamente degli europei, quindi dai premi Nobel, Dutna e così via, e quindi, questo per dire la dinamica storica, quindi chiaramente, qui c'è una dinamica, praticamente tutte le società, o meglio, non ancora società, quasi tutti i suoi ricercatori, più o meno accademici, tra il 2011 e il 2013, hanno depositato, non so quanto danno il brevetto, perché l'argomento lì era, dieci anni fa, l'argomento che era, che friggeva in pentola, insomma, e quindi tutti i non depositati, quindi tutta la battaglia legale, sarà sul contenuto, di ogni di questi documenti, sarà, è, sul contenuto di ogni di questi documenti, e siccome questo documento, che è stato depositato il 12 dicembre, un altro il 2 gennaio, parlo di 6 mesi dopo, gli americani fanno spesso così, loro in pratica è una sorta di work in progress, ogni volta c'è qualcosa che, che mi funziona bene, così che lo miglioro, boom, provisional, boom, metto dentro, faccio l'esempio, lo dico, è noto, Biontech, società, loro hanno fatto una cosa che non ho mai visto, nel 12 mesi hanno depositato 25 priorità, e non priorità, hanno 25 PCT, quindi con dei costi, non indifferenti, se voi andate a vedere, vedete il numero di pagine che variano, quindi come se aveste ora, una sorta di lab book, di quello che hanno fatto, se avete la pazienza e la voglia di farlo, quello che hanno fatto nei 12 mesi, sono circa 2000 pagine, non è una roba facile, però loro hanno questo 25 priorità in 12 mesi, e poi hanno continuato, non è che un'altra, l'hanno piantata lì, questo, i colori si vedono un po' magli, comunque, sempre il discorso di dire, cos'è una domanda di breve, la procedura virtuale è una sorta di ping pong, in cui, prima voi fate una cosa, poi c'è il primo di search, poi fate qualcos'altro, quindi, i costi e i tempi, vanno anche ripensati, ripensate tutto il fatto, che non è che fate un deposito, poi aspetto, no, è una cosa, che prenderà del tempo, in cui vi dovrete relativamente spesso, rivolgervi al mandatario, o alla società, e soprattutto, c'è tutto il discorso, che non studierò, che non mi prese ho in dettaglio, tutto quello che è il discorso del challenging, cioè potete fare del challenge, sia a livello del brevetto concesso, come nel caso che descrivevo, del CRISP, o addirittura, nel caso invece dei brevetti, covid, non dico niente di confidenza, che è anche tutto su internet, chiaramente sono le società, che hanno depositato l'ufficio brevetti, prima, dopo la pubblicazione del brevetto, delle memorie, dicendo guardate, il brevetto che vi è stato depositato, tal giorno, non è valido per questo, questo e quest'altro, e l'esaminatore, può o non può, tenere conto di queste cose, però su internet, può anche essere fatto in maniera anonima, ok, quindi non è che, io società A, io con la società B, ma questo, io posso dire a un mandatario, tu mi scrivi questo, per questo brevetto, e sarà il nome del mandatario, ok, se c'è la totale trasparenza, dal punto di vista, di chi deposita il nome del brevetto, chi fa il challenge, o almeno, non dovunque, ma in, la maggior parte dei paesi, può essere anche anonimo, ok, come si chiama l'uomo di palio, lo straw man, di chiama l'uomo di palio, strane cose, il formato, comunque, scusate se qualche riga, un po', non è come l'avevo pensata io, comunque, cose specifiche, per biologia, sono tre ordini di cose, di cui tener conto, se la vostra domanda di brevetto, ha cose importanti, in base a quello, lo standard, per le sequenze DNA, proteina, nucleic acid, variance, modificati, cose strane, sono delle regole molto particolari, che non bisogna transigere, fatevi ben consigliare, per non avere delle brutte sorprese dopo, questo standard, guardate, è stato modificato, ufficialmente, proprio inizio, a fine 2021, quindi, ci sono delle regole, che non hanno niente a che fare, col deposito, se avete mai fatto, depositi di sequenze, in banche dati, NCBI o altre, sono cose totalmente diverse, non lo spiego neanche, perché, è una cosa, per me è folle, però, funziona così, quindi, se avete notato un brevetto, proteine, DNA, così via, fate bene attenzione, o fare questo standard, o verificare bene, se indicate la sequenza, ha un codice uniprot, un codice in CBI, un codice GIMBank, questo, fate attenzione, che sia esattamente quel codice, che non sia cambiato nel frattempo, ci sono delle varianti, cose strane, questo è essenziale. Seconda cosa, cellule, quindi, materiali biologici, o anche, ibridomi, per anticorpi, attenzione alla questione del Budapest Triti, quindi, se sono dei prodotti, che sono viventi, ok, avete degli obblighi a depositare, in una, in una struttura, un repository, un archivio, ma una banca di cellule, sono in Italia, sono una settantina nel mondo, in cui mettere questo deposito, ok, perché, che può essere, dal giudice, o da un'altra società, preso, per verificarsi, quello che dite, nel progetto è corretto, quindi, anche lì, attenzione, che se depositate qualcosa lì, che sia veramente, non, la prima cosa, che trovate il laboratorio, ma qualcosa che poi, se è scongelato, è messo in cultura, fa quello che, che dite nel brevetto, e non qualcos'altro. Terza cosa, forse non siete molto interessati, medicinal chemistry, strutture, strutture chimiche, macro structure, qualcuno ha già sentito parli di macro structure? Ok, quindi, pensare bene a quello che è la struttura, della molecola chimica, per vedere quali sono le posizioni, che sono variabili, quelle che non lo sono, e quindi, dare la miglior descrizione possibile, nel brevetto, perché poi, tutti questi elementi, saranno poi, a obbligo, di, anche di, di, di analisi, se ovviamente, si fanno parte delle rivendicazioni. Stranezze, stranezze, cose in cui tenere conto, per esempio, esistono, in alcuni paesi, fanno le cose strane, diciamo così, in Inghilterra, in molti paesi anglosassoni, c'è questa regola strana, per cui, voi deposito una domanda nazionale, ci sono i 18 mesi di pubblicazione di tutta la domanda di brevetto, ma, l'Official Journal, inglese, australiano, pubblica dopo, adesso non ricordo più quelle, 7, 8 settimane, nel giornale, tra filetto, la persona X, la società Y, ha depositato la domanda di brevetto, in questa data, con questo numero, con questo titolo, ok? Questo dopo poche settimane, quindi nei famosi 12 mesi, ok? Quindi, io ho fatto anche, per quanto riguarda, la cosa dei brevetti, Covid, per esempio, dei vaccini Covid, molte città hanno depositato le cose, all'ufficio inglese, perché comunque, è un ufficio, un ufficio interessante, e vedete, sul, l'Ufficial Journal, che l'università olandese, piuttosto che la società tedesca, e così via, hanno depositato la tal data, quindi, dà un vantaggio, ai competitor, di guarda, loro hanno fatto, poi il titolo può essere, novel product, non è nessun tipo di, di obbligo, poi alcuni dicono, Tia, derived growth factor, for treating anigna, è un titolo, che può essere pesante, a livello di, di quello che gli altri, possono capire, quello che state facendo, e entro quali dati, che possono eventualmente, se loro hanno depositato questo, il 10 ottobre, il PCT sarà pubblicato, il 10 aprile, per due anni dopo, 18 mesi, quindi ho due anni, per fare qualcosa, che può essere migliore di loro, due anni, meno, ok? in Cina, invece hanno questa cosa stranissima, non so se hanno, in Cina hanno questa cosa, invece, i cinesi, di fare, un deposo, PCT, subito, il cinese a fianco, parallelo, stesso giorno, o quasi, e poi loro, non lo modificano più, cioè vanno facendo direttamente, il PCT, senza 12 mesi, non 18 mesi, però nel frattempo, l'oletto cinese, loro lo, 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 lo fanno esaminare, rapidamente, e quindi c'è la pubblicazione del brevetto cinese, che è prima della pubblicazione del brevetto, della domanda del brevetto PCT, e visto che le domande del brevetto cinese, in parte sono ricercabili anche in inglese, c'è un effetto anche di prior art, perché voi avete la prior art di domanda del brevetto cinese, pubblicata talvolta, dalla volontà di chi deposita, anche dell'esaminatore, di fare in modo che questa domanda del brevetto, venga pubblicata e granted, è concessa rapidamente, quindi, cioè questa è una lingua, ogni paese ha le sue obblighi di lingua, per esempio, il paese ha un vicino, la Svizzera, potete depositarle nelle tre lingue nazionali, più l'inglese, altri paesi, nel PCT avete nove lingue, avete l'inglese, l'aceto tedesco, coreano, giapponese, cinese, russo, e così via, nel biotech non è così, ma è sicuramente tutto l'inglese, però ci sono delle cose e crescono il numero di depositi fatti su delle lingue asiatiche. In parte il problema di costi, per così gli aderati, insomma, il mandatario cinese fa prima scriverlo in cinese, quindi non carica i soldi, così, ma c'è anche un discorso, per condomere, anche in parte di rendere meno visibile, anche pubblicato in certo mesi, meno facilmente apprezzabile cosa c'è, cosa non c'è dentro, quindi è una di queste pratiche particolari, e poi appunto la questione, ho parlato di, o avete già si riparato di European, MPCT, Application, non dimenticate che la progettazione nazionale è sempre la più rapida, e parecchie società, anche delle più grandi, visto che non si fidano, o che potrebbero dicono, guardate, è bello il brevetto europeo, opposition, tutto quello che volete, però io ho il mio brevetto, tedesco, francese, svizzero, e ho i fondi per fare queste tre procedure in parallelo, io me li faccio, l'esimatore, fa le cose in maniera meno accurata, però io ho in sei mesi il mio brevetto, poi io continuo il mio PCT, poi il mio brevetto nazionale lo posso anche abbandonare, però ce l'ho, ok? E quindi, se io ho in certi paesi una filiale, un competitor, quello che ho, ho il brevetto, anche se non è passato dal circuito PCT o dal circuito europeo, un brevetto che possono andare al giudice, guardate, io ho una filiale in Spagna, ho un brevetto spagnolo, quindi nessuno in Spagna può fare queste cose senza chiedermi un'autorizzazione. Quindi, purtroppo è fortuna, si può discutere, il fatto che coesistano queste due procedure con degli esiti e conseguenze notevoli, una più rapida, ma meno attenta, e quindi poi per invalidare il brevetto andare al tribunale italiano, spagnolo, così con tutti i causti che ci sono, quindi, però, parlando di un settore come quello della componentistica per auto, si può dire, a un mandatario, alle società, nelle componentistiche, loro, sì, il brevetto europeo è tanto bello, ma loro depositano, sì, il brevetto europeo, ma poi depositano il brevetto tedesco, francese e italiano, perché sanno che sono i paesi dove c'è più produzione e commercio di questo tipo di componentistiche, quindi, a scanso di equivoci, io sceglio già. Poi, se arriva l'europeo, soprattutto in un sistema, in un contesto come quello dell'automobilistico o di altre cose, in cui un time to market è anche un time to commercialize, time to be ridotto, sono cose di cui tener conto. E questi sono appunto gli esempi che ho preso, una presentazione che ho fatto sui brevetti COVID, sono in dettaglio, l'idea che appunto, io ho, sono delle società che mi avevano depositato un anno di brevetto prima del gennaio 2020, ok, se vi si conto che la loro domanda di brevetto potrebbe essere in qualche maniera utilizzata a qualche modo anche nella communication, per il controllo non solo del COVID, ma di qualsiasi tipo di epidemia. Quindi hanno riscritto il brevetto, scusate, hanno riscritto il brevetto in questo periodo in modo tale da mettersi in funzione, quindi hanno rivisto totalmente la cosa. Quindi, poi su un'altura gli Stati Uniti hanno un sistema un po' di assi in cui si possono anche aggiungere dei pezzi, però è una cosa un po' particolare. Comunque per dire che, scusate, nel caso del colpo successo col COVID, la gente si è sbizzarrita a livello di tutte le possibili varianti di strategie e progetti nazionali paralleli, grant, prima del PCT, tutto quello che volete. Sono veramente una... Una cosa importante, adesso ritorno su quello che è il discorso sul rapporto, sul rapporto, le varie entità che sono nell'ecosistema del brevetto. Il brevetto è veramente un prodotto, un documento di team. Quando dico team, nel senso più ampio del tema, penso che c'è l'inventore, la società per cui lavora l'inventore, che spesso appunto può decidere sì, no, come, quando, perché, il mandatario, quantità tornei, e in un ultimo l'esaminatore che ha degli obblighi, io nel mio statuto devo concedere brevetti che sono validi e quindi se le prime tre parti tutto è nelle mani di queste tre persone, l'ultima parte, l'esaminatore, decide solo sulle reivindicazioni, però le reivindicazioni sono quelle che danno il valore al brevetto. Quindi quello che vedete come un brevetto è concesso è veramente un team che attraverso diversi anni lavora e che dovrebbe comunicare, dico dovrebbe perché appunto purtroppo vedo la mia pratica professionale che la gente cambia, muove, si dimentica, fa, disfa e poi le cose vanno magari in malora anche per questo. E qui ho messo tutta una serie di differenze di cos'è un brevetto rispetto a un documento, non vado qui nei dettagli per non prendere troppo tempo, ma ritorno sul fatto il brevetto è un documento tecnico come altri che ho pubblicato come altri ma con modalità un po' diverse però è un documento tecnico, addirittura avete una visibilità della data, voi sapete che il martedì pubblicano i statunitensi, mercoledì europei e giovedì e giovedì il PCT quindi voi potete mettere in piedi i vostri alert o la vostra pratica ordinaria ogni venerdì vado sul sito del PCT e vedo del mio sette cosa c'è di nuovo questa settimana, non è come con i giornali preprint, reprint, versione 1, versione 5, versione 7, così, lì giovedì una settimana tranne feste comandate è sempre così, quindi e poi c'è il discorso appunto quello che fa arrabbiare tutti, quello della ridondanza di tutti, il fatto è che come dicevo la domanda di brevetto è unica, poi viene splittata, viene divisa, ci sono le principi diverse però il testo, il contenuto tecnico del documento è lo stesso, talvolta tradotto in cinese o so quello che volete, contenuto tecnico diverso, quindi voi avete fatto una ricerca ah ci sono 20 hit, sì, ma sono due domande di brevetto che una è stata pubblicata poi come europea gli US cinese e l'altra magari X quindi documenti veri, unici, tutto a livello tecnico, legale è un altro discorso, ma a livello tecnico puro sono due, non sono 20, quindi non bisogna spaventarsi di questo. Il contenuto di una domanda di brevetto quello che dicevo è appunto che la lettura di un brevetto non è la lettura di un articolo o perlomeno, lo è, ma in maniera un po' diversa, cioè sono quelle che venivano dedicate le informazioni della prima pagina, sono informazioni che non sono solamente titolate, ma sono informazioni di tipo di procedura che possono essere importanti, c'è la descrizione che è quella della parte, il corpus in cui ci sono delle diverse sottosezioni di cui parlerò rapidamente, le rivendicazioni che è la parte legale e la parte dinamica, la parte che nel tempo è nello spazio, cioè nel tempo e tra diversi paesi non solo è tradotta ma anche può essere modificata, le figure e poi lei comincia il gioco, tutto quello che la prelimina l'esame, tutto quello che poi dopo l'esaminatore o l'officio prolettuale pubblica riguardo di questa domanda, quindi che siano l'esame di ricerca preliminare, i documenti riguardanti eventualmente la società, chi è il mandatario, insomma, senza che voi facciate niente, tutta una serie di informazioni vengono aggiunte, vengono aggiunte, di cui tener conto che il fatto è che se la domanda di brevetto non c'è un limite numero di pagine, quello qualche volta, per esempio su tutti gli statunitensi non c'è il numero di pagine, allora fanno questo numero di brevetto da 150 pagine, 70 figure e poi dopo, alcune università adesso forse sono un pochino, non hanno capito che forse non è la cosa migliore, poi dopo vogliono fare il brevetto cinese, gli arriva il preventivo per fare 200 pagine in cinese e dicono non è sempre così necessario scrivere 200 pagine, forse non è solo la dimensione del documento che importa, ma si possono fare delle scelte o senza troppo diminuire quello che è il valore legale del documento, non sono soluzione di fare dei copy-paste da template o da rapporti o così senza neanche pensarci, cosa che, ripeto, tutto in ambito accademico spesso si vede. E poi appunto quello che dicevo delle biological sequence non ci vuole andare in dettagli ma è un argomento di cui veramente essere molto attenti e molto chiari con chi eventualmente avete a che fare a questo riguardo perché c'è tutta una procedura di cui essere estremamente lucidi. Vi insegniamo tre articoli che poi sono anche nel file Excel per trovare questi tre articoli ci ho messo del tempo perché veramente è una pubblicazione PAMED c'è pochissimi articoli che ne ho trovati cinque in dieci anni in questo genere che fanno un minimo di divulgazione su come leggere un brand di brevetto lo trovo scandaloso. Questo è molto, anche se non sono recentissimi sono estremamente raro. Questo qui sono, questo articolo dice tips for reading patterns and concise interaction for scientists sono al 100% di quello che dice d'accordo e anche il settimo anche se c'è qualche nuance qualche patterns are not subject to the scientific method and peer review quindi la cosa che mi sento dire tutto accademico questo progetto basso su un articolo pubblicato su science perfetto niente da dire ma se la prior art se quello che lo stesso inventore ha pubblicato prima rende l'articolo di science bellissimo ma in qualche maniera prevedibile o comunque la realizzazione di quello che è stato suggerito spesso dall'autore stesso ricordo una cosa fondamentale la prima cosa che fanno l'ufficio statunitense altri non tanto ma l'ufficio statunitense è standard quando i posti sono davanti brevetto quando andiamo davanti brevetto il senatore la prima cosa che fa è cerca col nome degli inventori cosa hanno fatto prima quindi volete essere voi se siete inventori a verificare cosa avete detto prima se c'è qualcosa che è perché poi si dimentica si dice ho detto qualcosa nel conclusion ecco la cosa terribile ho vinto dell'opposizione con questo quello che uno degli inventori ha scritto in una conclusion di un articolo di tre anni prima dice ah ma si potrebbe fare così ok è così io ed era una grande società ti ha fatto passare infatti sono come hanno fatto passare una roba simile come hanno fatto passare una roba simile le conclusion degli articoli per chi vuole invalidare un brevetto che sanno che voi siete un inventore può essere una miniera d'oro ok però se io ad esempio faccio la possibilazione della decisione e dico questo prodotto che sarà l'interessante questo dispositivo diagnostico eccetera ma non faccio cioè non è descritto come quello adesso non voglio fare una cosa c'è l'inventi step e questo è un concetto che a livello accademico non viene passato allora c'è la novità adesso non voglio fare tutto il dettaglio perché la novità è che veramente io l'ho fatto cinque anni prima mettono mettono nel brevetto cinque anni dopo no ma io dico si può fare cinque anni prima aspetta aspetta però mi manca qualcosa due anni dopo non te ma chiunque l'altro ti dice ah si potrebbe fare in questa maniera c'è il pezzo parte non è esattamente questo manca c'è qualcuno che ti che aggiunge quel pezzo che a te manca l'esaminatore mette insieme due documenti dice sulla base di A più B il brevetto è ovvio non è inventivo punto punto però ad esempio se io penso nella conclusione sarebbe bellissimo fare un cuore artificiale tecniche chimico fisiche faccio un esempio che io per x motivi non riesco a generare o validare e così via ok e in un altro brevetto in un articolo di chiunque altro che non ha nessuna relazione con te l'esaminatore tratta l'inventore cosa l'enorme differenza rispetto a peer review che tu sia premio nobel o un ricercatore in una università sperduta in kazakhistan se tu sei pubblicato un articolo in inglese ha lo stesso valore ok che sia il brevetto cinese che dice qualcosa che magari dice che quel cuore artificiale o quel tipo di membrane potrebbero essere con queste caratteristiche che vengono evocate come sarebbe bello che le ha realizzate qualcuno e tu nella tua domanda tre anni dopo dici ah si possono fare così perché ci sei arrivata per qualsiasi altro percorso o collaborazione quello che è l'inventi step è l'inventi step può essere rispetto a quello che tu hai detto che non sapevi altri hanno fatto quindi torniamo al discorso del competitive intelligence sapere quello che hanno fatto gli altri così via brevetti o scientifici o può essere chiunque gente che non scusa tipo sì va bene cuore artificiale microscopio con risoluzione infinita così che va bene però per dire un altro esempio scusate grant depositati presso istituzioni secondo la procedura questi grant possono essere diventare pubblici ok sono ricercabili perfino per google quindi si può se qualcuno vuole demolire una donna in brevetto ti posso dire che mai come adesso ci sono ti faccio finire ma giusto per dirti che tutto no appunto nell'ottica del tutto c'è anche proprio il esempio Asimov non era cioè era una invenzione nei libri di fantascienza esattamente io posso anche o magari non lo so quelle sparate che fanno nei telefilm per spiegare delle cose ti posso dire che l'ufficio che l'ufficio statunitense ha tirato fuori delle cose preso da dei libri sì ma anche da paperino abbiamo visto il primo giorno ah non so questo non sono qui il primo giorno ma esatto però va bene ok però Asimov che mi parla di alcune questo sono casi un po' particolari però la miniera d'oro sono tutto quello che l'inventore prima della domanda la prima data indicata ha fatto rent articoli linkedin twitter tutto ok stesso livello inventore premio nobel inventore antoni fauci o sottoscritto c'è però per dire anche estremamente democratico poi si può discutere x cose però per dire anche macgyver in una puntata fa un ci sono i casi ci sono i casi lo so lo so se non ha dato se l'a più b sono un a più b che deve essere in america fanno a più b più c talvolta addirittura che prendono addirittura indicazione che potrebbe essere tipo un book generico di farmacologia ok chiunque ha fatto gli studi di farmaceutici di farmacia sa che più o meno si può migliorare la formazione di una proteina in questa maniera quindi si va molto lontano dipende molto dall'esaminatore dal settore da tante cose non è però si va molto 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 lontano beh ma se tu dici questo l'elefono ologrammi necessita un circuito fatto in questa maniera più un circuito fatto in questa maniera un sensore in questa maniera e così via è molto più complicato ma è prevettabile si esattamente esattamente quindi no no ma è quello che fanno tutto quello che è meccanico meccanico e comunicazioni c'è molto il discorso di dire veramente cioè c'è il breakthrough technology che è la cosa però se voi vedete apple se vedete samsung se vedete loro fanno decine di depositi su pezzi cioè raramente fanno qualcosa su tutti gli studenti magari fanno la grande il brevetto che appolo facebook o altri così anche perché poi c'è tutto il discorso di b del software che è in istituzione è protetto diversamente in europa insomma diciamo perdere però tutte queste società fanno veramente pezzo per pezzo per cui tu li metti insieme i pezzi e fai il telefono all'orogramma però tu hai un sistema che è detection method movement e così via che può essere applicabile a x cose relative alla comunicazione tridimensionale quello che volete quindi questi altri adesso andiamo avanti questi due articoli questo questo è generale questi sono veramente per la biotecnologia sono due attori tedeschi sono due articoli successivi sono anche delle sono vado qui nei dettagli che se no avrei già fatto presentazione però insomma sono estremamente interessanti come spiegano anche un po' di cose when to file patent application il discorso dell'undue burden tutti questi discorsi ho fatto quanto quello che voi dite lo dimostrate nel test adesso torno prendo come sempre come esempio il discorso relativo alle domande di brevetto CRISP questa qui è quella domanda che dicevo prima quella del Broad Institute in cui ci sono tutta una serie di queste sono le informazioni sulle 6 priorità qui sono le informazioni quindi le classification code che vi spiegano altri se non sapete cosa sono molto interessante le informazioni la prima il test il titolo l'abstrap che è totalmente free quindi potete mettere new medical product perché quello non ha alcun valore legale il titolo l'abstrap non è come il titolo l'abstrap l'esaminatore neanche lo qualche volta chiedo di modificarlo perché ormai le indicazioni sono andate in tutta altra direzione però totalmente secondaria la scelta di questo tipo quello che però è importante sono appunto queste numerini queste date qui perché sono quelle che determinano quello che si diceva stamattina il priorato quindi chi è arrivato prima a far cosa e lo stesso domanda di brevetto poi concesso a ripubblicarsi in Europa ha delle informazioni supplementari quindi se si vuole il brevetto tecnicamente diverso ma da una parte delle vendicazioni cioè scusate il contenuto tecnico è uguale ma ci sono delle indicazioni riguardo alla prior art qui e qui nell'americano e qui nell'europeo e altre informazioni di procedura e le classificazioni della tecnica e delle invenzioni che possono essere notevolmente diverse e quindi sono informazioni supplementari non nazionali che possono essere utili per la ricerca per l'analisi tutto quello che volete quindi nell'analisi di brevetto c'è un background c'è tutto spiega come funziona quello che voi sapete che è stato fatto prima da altri o da voi stessi non dimentichare la propria prior art e come questo documento questa parte di introduzione può essere in generale molto breve anzi i mandatari lo vogliono più breve possibile io sono un po' di una scuola che comunque qualcosa bisogna dire non fare sufficiente quelli che extremely surprising tutte queste belle formule belle piene di pathos su quanto l'inventore abbia trovato qualcosa di meraviglioso che poi nei dati di fatti spesso non è quindi dimenticando totalmente quello che o l'inventore stesso o qualcuno magari classico caso l'ho visto di persona l'inventore che non dice al mandatario le pubblicazioni di un qualcuno che è il suo competitor scientifico ok perché lo odia ok però l'esaminatore e poi arriva il search report e dice ah ma il professore X ha scritto questo e l'inventore dice ah ma quello è uno stupido l'esaminatore non gli importa niente non gli importa niente forse anche insisto forse anche un premio Nobel non importa niente quindi tranne in caso di cose in cui si può definire che c'è l'importanza dell'articolo e così ma in teoria l'inventore ti trova a giustificare perché è meglio del proprio competitor scientifico quindi può dare luogo a delle situazioni abbastanza divertenti e quello che dicevo prima sul duty of candor sul fatto che poi se venite a sapere qualcosa siete uniti dovete essere pro-active non dovete aspettare che l'ufficio sovitenza lo dica ma dirlo al mandatario che poi lo comunicherà e che poi sarà comunicato anche a chi nel pubblico attraverso il sito dell'USPTO poi c'è il sommario di scritto questa è la parte che il sottotitore mandatario scrive della parte di come l'invenzione potrebbe essere utilizzata che in generale gli inventori non leggono ma che sono sarebbe utile comunque darci un'occhiata perché sono tutte delle definizioni che possono essere importanti poi per il valore legale del brevetto e gli esempi gli esempi quello che in generale ripeto purtroppo gli mandatari ricevono il rapporto il draft dell'articolo il grant qualche volta fammi una domanda di brevetto su questa cosa che ti mando e loro fanno copy paste quindi mettono gli esempi cioè quello che sta veramente fatto qualche volta è un copy paste qualche volta è un pochino più elaborato qualche volta si fanno anche errori e quindi è dell'interesse sapendo che poi le esigenze quello che si diranno in due o tre slide fa le esigenze di disclosure di mostrare come si fa non sono quelle degli articoli cioè negli articoli sapete meglio di me materials and methods di un articolo sono fatti in fretta e furia dicendo ah come ho descritto nell'articolo del 2010 poi magari non esattamente o come è stato fatto da X poi dopo uno si fa vedere se è veramente fatto così o magari hanno fatto le modifiche poi dopo si trova l'esaminatore o il competitor che fa le pulci io l'ho visto purtroppo sono cose che ho vissuto che fa le pulci e purtroppo l'articolo citato non c'è esattamente quello che si sarebbe aspettato rispetto a quello che si trova nel brevetto e quello può essere un danno quasi irreparabile al brevetto se non ci sono descrizioni esplicite fatte in maniera corretta quindi attenzione a cosa citate e a cosa non citate e come lo citate anche cioè in teoria se avete mai visto un brevetto sono gli esempi 1, 2, 3, 4 in generale c'è materials and methods e results in teoria o quello che dovrebbe essere una buona pratica i materials and methods sono più lunghi del results esattamente l'opposto di quello che è in un articolo perché dovete veramente immaginate quasi se fosse un libro di un labbook ok veramente e se potete fare uso di precedenti riferimenti posti di chiunque d'altro meglio ma nel dubbio nel dubbio sono sono pagine possono essere estremamente utili per evitare poi delle brutte sorprese 3, 5, 10 anni dopo quando magari la persona non lavora più con voi o così che purtroppo sono errori che sul momento l'esaminatore lui non li vede solo se c'è un challenge da qualcun altro allora si va a leggere queste cose e quindi 5, 6, 10 anni dopo poi si fa poi a dimostrare la buona la cattiva fede è difficile estremamente difficile quindi gli esempi gli esempi in generale ci sono poi ci sono le tavole sono gli esempi sono le cose supplementari che sono arrivati quindi sono tavole figure bianco e nero dimensione dei test in una certa maniera perché se no bisogna rifarle le foto in genere da evitare perché sempre in degrees o gray non sono accettabili quindi flowchart sono un po' più accettabili però non fare dei flowchart estremamente complicati tranne nel caso dei circuiti non sono neanche flowchart sono di un circuito ovviamente però potete fare dei flowchart però senza esagerare poi tutto il discorso che dicevo prima delle sequenze che sono fondamentali dall'articolo non essere presentate e discusse e comunque rese disponibili in una maniera ben precisa e ben efficace e poi le claims quindi la parte che nessun inventore legge che è quella che preleggono gli esaminatori il mandatario tre volte giudici e i vostri competitor primo luogo per capire qual è il tipo di protezione legale che volete e quindi questa è quello che io dico in maniera forse un po' un po' rapida però per me un po' è così il vero abstract di un brevetto è titolo abstract e claims perché nel titolo abstract si può in qualche maniera fare un po' i generici nei claims non si può non si discute quindi quello non si può transigere quindi anche una ricerca per parole chiavi per i brevetti se non copre le claims è una ricerca debole come minimo debole quindi non è come PanMed poi c'è un sistema che può aiutare quello delle classificazioni in cui spiegherò dopo quindi poi le rivendicazioni sono quelle che poi si diceva anche stamattina le rivendicazioni di prodotto di metodo di uso di prodotto è il prodotto puro definibile con una struttura chimica o una sequenza proteica che comunque con una struttura chimica semplicemente ci sono dei simboli che si indicano gli aminoacidi oppure complessi come cellule e allora lì c'è tutto il discorso del deposito e quindi ci sono delle regole che bisogna applicare per questo tipo di invenzioni ci sono troppo complessi perché risultano da un processo complesso e quindi non potete controllare in maniera esatta tutte le componenti quindi quello che viene chiamato in inglese product by process quindi definite questo prodotto che si ottiene facendo questo 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 un po' con una ricetta di cucina se vogliamo essere un po' semplificando il mio prodotto è una torta di mele perché uso questo e quest'altro lo mescono in tot di minuti metto in forno a 200 gradi per 20 minuti e ottengo questo e quindi un product by process in cui mettete insieme gli elementi iniziali i step e poi se poi tu sui product by process puoi avere anche delle varianti a livello legale della sua enforcement particolare ma comunque è una categoria a sé stante tutti gli usi che sono immaginabili brevetti di processo come fare quindi come produrre una proteina a più alto livello utilizzando promotori adattando il codice il codon e tutte queste cose e quindi però rimane il fatto che il product e il composition of matter sono i più valori quindi se uno non ha un product in qualche modo riscende di categoria perché l'elemento che può essere più facilmente individuabile da un giudice o da un competitor è il prodotto finale che lo può eventualmente si è messo sul mercato può essere anche analizzato in maniera chimica o biologica se è un metodo allora dipende allora il prodotto con cui fare il metodo è protetto da chi come quando perché ok quindi purtroppo è un'altra cosa che osservando con gli accademici ho visto e vedo spesso si dà troppa di importanza a io ho questo metodo bellissimo per fare questo e quest'altro ma alla fine il prodotto o almeno un intermedio di prodotto è totalmente nuovo o no perché se per ottenere quello che altri fanno magari con più step con più in maniera più complicata più cara tutto quello che volete ma se alla fine il prodotto è identico ok il metodo ogni società lo può fare nel suo come dicevo prima nel proprio laboratorio può non pubblicare niente e si vede il vostro brevetto poi il brevetto può essere concesso ma se voi non avete modo di sapere come la società ottiene il prodotto potrebbe essere col vostro metodo siete in una posizione debole e purtroppo troppo spesso potete dire ah questo metodo bellissimo non c'è un prodotto da qualche parte anche un intermedio anche l'intermedio di un processo può essere brevettabile se è un intermedio chiave che può essere stoccato in un frigo e che quindi se c'è la guardia di finanza o chiunque l'altro che va a cercare lo trova che trova una traccia di questo avete modo di attaccare in giustizia qualcuno anche l'intermedio può essere può essere un oggetto che poi non è quello finale ma che almeno vi dà un minimo un appoggio per dire ok non sono sicuro che il mio metodo cioè non sono sicuro di poter determinare che chi fa nel mio settore non usa un metodo che è nelle mie rivendicazioni però se loro in qualche momento ottengono questo prodotto intermedio non si scappa o perlomeno ho delle buoni motivi di credere che io posso brevettare un intermedio poter uso di intermedio questo per fare una nuova tintura una nuova colorante un nuovo quello che volete posso proteggere l'intermedio che può essere a livello finale meno interessante ma a livello strategico estremamente utile o perlomeno darvi un minimo a voi o agli investitori un minimo di dire ok è solo un metodo però ho qualche leva o qualche punto in cui appoggiarmi come fosse quando si fa le arrampicate o qualche punto di appoggio in cui potermi dire ok posso arrivare a convincere il giudice che la società sta facendo sta utilizzando la mia invenzione beyond text quindi quello il vostro 70 pagine nelle vostre 80 pagine poi sono quello che è oltre il testo è quello che genere vado avanti nelle prossime poi finiamo alle 4 finiamo facciamo lo stop alle 4 quindi come dicevo a 18 mesi inizia il vero gioco la partita comincia e in questa partita tutta una serie di interventi in particolare su quelli degli uffici brevettuali americano sudunitense e così via che vengono analisi pubblici e quindi fanno parte dell'informazione brevettuale che non producete voi ma che altri producono sulla base di quello che voi fate vite all'inizio e durante tutta la vita del brevetto quindi un accumulo progressivo di tutto questo materiale scritto è reso pubblico sui registri informatici e soprattutto a livello secondo alcuni paesi anche informazioni sull'ownership e licensing ok devono in alcuni paesi essere registrati e quindi che non rimangono solo intervalls tutto quello che sono pagamenti di fees quindi se si accorgono che voi avete dimenticato di pagare un'annuità o non avete voluto pagare l'annuità e quindi che il brevetto non è più valido quale è patent information dire che questa domanda pur essendo stata concessa non è più valido non è più in vigore e poi ovviamente tutto quello che voi dite o fate come nei telefilm americani tutto quello che voi dite fate a questo momento in poi è agli atti ok e anche i vostri argomenti nel caso in cui ci sia poi a livello dell'ufficio proprio brevetto quindi c'è tutta la parte di nel caso in cui ci sia poi una procedura di attacco del brevetto tutto quello che è relativo ai motivi ai cambiamenti nelle claims sono riportati nei file disponibili sul sito internet però tutti questi documenti così correlati la stragrande maggioranza sono dei pdf non leggibili non ricercare quindi il discorso è sono ottenibili ma richiede di conoscere un po' il sistema e poi avere il tempo e il voglio o di fare almeno lo scanner la trascrizione o avere il tempo di leggerli perché per i quali sono gli elementi che vi interessano nei paesi questo è la regola in Europa Stati Uniti WIPO per la parte international per l'examination i paesi in alcuni paesi invece ancora totalmente voi vedete sotto la Cina o il Giappone o l'India deposito grant nel frattempo non sapete niente di quello che è successo e quindi in questi paesi ci può essere sempre il rischio di qualcosa che salta fuori perché magari ogni brevetto iniziale aveva delle reivindicazioni molto ampie boh chissà se è importante 5 anni dopo 3 anni dopo il vento è riconcesso in quel paese con delle reivindicazioni che sono dato che possono essere quasi totalmente riscritte se c'è supporto nel testo allora lì le reivindicazioni concesse potrebbero essere sorprendenti almeno rispetto dei vostri e non avete modo come in Europa di dire ok loro hanno ricevuto questa obiezione hanno risposto facendo così e poi l'esaminatore ha detto sì mi va bene ma non esattamente così e loro fanno una nuova obiezione quindi c'è questo gioco qui e lo voi potete seguire nel tempo come agisce il vostro competitor o i competitor vi ridono come voi agite sempre reciprocità in questo genere di cose e quindi con questo tipo di informazioni perché no si vedono questa cosa sul CRISP e quindi questo statement uno degli statement criastici quello che è stato scritto nel Claims 3 sono some of the several straightforward possibilities which the skilled person would select in accordance to the circumstances nel senso talmente ovvio cioè non ho neanche bisogno di dirvi perché non è in realtà perché è talmente ovvio che sono varianti poi a seconda dei casi poi potete avere ovviamente non è che è definitivo questo uno potete dire fare degli argomenti due eventualmente modificare le Claims in modo tale che l'esaminatore sia di quello appunto questi inventi step sono il novelty è qualcosa un po' più pesante perché qui documento uno allora lo sono andati a vedere il supplemento di materiale su di un articolo quanti di voi se non proprio vanno a vedere un supplemento di materiale gli disegnatori vanno a vederli se hanno quindi in questo caso del CRISP su un soldi uno era un articolo probabilmente dell'altro gruppo disclosed the vector system così has been quindi state vector is used as method altering expression quindi perché c'è negli esempi del vettore già nel supplemento di materiale neanche le conclusion supplemento di materiale e hanno dovuto poi dopo hanno avuto i loro problemi comunque poi quello che vi dicevo sul fatto è che WIPO mette poi a disposizione tutti questi documenti sono dei pdf ogni documento adesso questo qui adesso si vede quindi le priorità la prima priorità aveva 300 pagine a seconda 305 a seconda 307 a seconda 405 poi ha messo tutto insieme e ha deciso quali quali utilizzare questa è una delle sono quante ancora una parte pattern classification è una cosa quanti di voi magari mi sveglio un attimo quanti di voi usano sanno cos'è il mesh system in PAMED quanti state le mani ecco allora uno per favore utilizzate perché è estremamente utile nella classica situazione in cui avete fatto una ricerca in PAMED lo trovate con un certa cosa due e mai non sono anche interessanti togliete un criterio di ricerca e vi trovate 100.000 io non mi leggo 100 articoli così via anche lì il sistema di mesh medical subject headings in PAMED il sistema di indicizzazione su quello che è il contenuto dell'articolo che pesca secondo i casi dal titolo dall'abstrad anche dal contenuto intero nei brevetti c'è un sistema simile ok che però è basato solo sulle claims quindi ricordatevi le claims quindi anche se il titolo abstract dice certe cose sono quelle che fanno fede qui per caso ti dico che il titolo abstract è in claims è il vero abstract dell'articolo anche se poi le claims possono essere 20 pagine ok però il vero abstract è quello il sistema mesh è un sistema basato su parole è una gerarchia quindi proteine ci sono decine di migliaia di cose il sistema di classificazione brevettuale sono due sono paralleli l'IPC al CPC e visto che sapevano perché il mesh è fatto dagli americani in inglese è tutto bello quindi tutti parlano in inglese nei brevetti hanno capito che se io ho un documento in Russia scritto in russo in giapponese io ho l'esaminatore giapponese di rendersi legge se il documento russo o inglese non la voglia non può farlo però è importante per la vettibilità e loro hanno creato un sistema basato su codici alfanumerici ok progressivi F è una cosa F02 un'altra F02 D e così via ed è un sistema ricercabile e ogni domanda di brevetto e questo è totalmente come il sistema mesh è totalmente fuori controllo penso sappiate mai visto vi invito se avete pubblicato qualche articolo che si permette andare a vedere i mesh del vostro articolo e vedere come è stato indicizzato penso che avreste qualche sorpresa di cose che voi non avete mai pensato che però sono ricercabili dagli altri e dite ma perché non hanno messo questo criterio che è evidente non lo so non potete fare niente qui è la stessa cosa nel senso che anche qui l'esaminatore dice secondo me ci sono questi codici che si e vengono pubblicati nella prima pagina ok e quelli sono ricercabili indipendentemente dalla lingua di pubblicazione e quindi sono estremamente utili per soprattutto in caso di cronomi concetti così dire ok se io metto adesso faccio un esempio classico A61K39 quello che è relativo poi la cita degli anticorpi allora se io metto A61K39 anticorpi antigeni vaccini so che sono in quella zona lì e non magari una zona sempre di terapeutica ma che non ha niente a che fare con gli anticorpi e con i vaccini e quindi questo è l'esempio che dice questo qui l'A61K e quindi 6 sono prodotti per i dentisti dentistici 8 cosmetici preparazioni tipo per risonanza magnetica 9 31 e poi 39 antigeni e antibodi per le ragioni storiche non sono messe come proteine le ragioni storiche che hanno messo anticorpi e proteine anticorpi e vaccini e antigeni da una parte e proteine ricombinanti o meno dall'altra è una cosa storica peptidi diverso da proteine quindi c'è un discorso tra meno di 20 aminoacidi e più di 20 aminoacidi tutti i 20 aminoacidi sono peptidi e quindi se il prodotto è un peptide entrerà in una categoria 30 35 no 38 e poi ci sono ancora delle sottocategorie quindi sono anche le decine di migliaia però è alfanumerico e questo per esempio nel caso come esiste ho fatto un esempio nel covid glossary che c'era nel wipe tutti i termini che riguardava il covid nelle varie lingue del wipe le 10 lingue poi dopo a livello che sono le classiche classificazioni per quanto riguarda i trattamenti o i vaccini per il covid quindi avete A61K sono antigeni dei coronaviride quindi si può andare veramente molto lontano non esattamente del SARS-CoV-2 ma di tutti i coronaviride quindi anche i coronaviride che non sono per gli umani anche i vecchi tutti sono in questo asse di 39 e 215 e poi anche qui questo livello di invenzione relativa a questo SSRNA Various Exposive Sense e ancora e lo vedete colgi qui e addirittura a livello di uso farmaceutico A61P 31-14 sono virali che siano o farmaci o vaccini e quindi sto prendendo il caso di quello che riguarda il sempre questo CRISP e quindi ci sono queste definizioni stable introdacenti non ce n'è solo uno come nei mesh possono essere 2, 3, 5 10 qualcosa oltre mettono anche troppi oltre anche 40 i cinesi sono terribili so perché tutti i documenti classificati ai cinesi hanno o ne hanno uno o ne hanno 30 non ho mai capito bene perché qui ce ne sono parecchi ho già 20 quindi può essere veramente stable introduction for DNA using of all's recombination in mammalian cells involving this cluster regular hanno già dato che un sistema in progressivo miglioramento questi codici vengono rivisti aggiunti qualche volta un po' non è un problema non è esatto non è proporzionale il numero di claims è proporzionale al fatto che queste claims da uno mettono il prodotto poi l'uso poi il metodo poi il metodo in certe patologie e poi il prodotto modificato per una certa formulazione mettono tutto insieme fanno delle claims che sono dire c'è anche l'unità dell'indicazione quindi è sempre un'unica invenzione e quindi negli Stati Uniti è regolare forse l'avete già sentito o visto ma non è un brevetto negli Stati Uniti viene regolarmente obiettata per essere non unit e quindi per esempio per prodotti farmatici avete un brevetto di prodotto quindi la proteina l'anticorpo questa sequenza poi avete un altro brevetto qui c'è uso di questa proteina e questo anticorpo per curare dall'infezione perché hanno una visione molto addirittura delle indicazioni di prodotto DNA e della proteina codificata dal DNA adesso hanno un po' cambiato sono meno quando ho cominciato io veramente era cioè avevano anche 5 o 6 perché mentre dopo avevi 1 massimo 2 e questa è la cosa importante proprio per quello che sarà il proseguo come dicevo ci sono quello che per me questo è un po' un punto fermo di cui tenere conto è la diversità di informazione brevettoale quindi l'informazione brevettoale rispetto all'attività della società sono di tre livelli quindi di tipo tecnico quindi che lo leggete come un articolo ok e soprattutto testi, figure e esempi eventualmente e non solo i riferimenti che voi o che l'esaminatore cita quella è la parte tecnica poi c'è la parte legale la legal parte quindi tutto quello che è stata scelta in quali claims uso in quali nazioni e quali sono soprattutto tutto lo status ho pagato non ho pagato le fise e così via e poi quello che chiamo tutte le entità che in qualche modo sono coinvolte quindi sono gli inventori i patini gli insistenzi quindi rientra in un ambito che è tra il tecnico e il legale ma che però ha una realtà di tipo commerciale perché sono questo tutto nel caso di applicant o nel caso di infringer chi vuole o chi può sviluppare e offrire questo prodotto questo servizio sul mercato e quindi nella parte tecnica c'è tutta una parte dedicata a tutto quello che sono le informazioni relative a e problematiche l'analisi perché purtroppo come dicevo l'interazione tra mandatario inventore applica magari non è molto fluida quindi mettono pezzi cambiano il test quindi poi sono anche dei test di certe volte molto ineguali sono delle incoerenze interne al test che possono essere estremamente dannose quindi ogni volta che siamo ben detto purtroppo si vedono spesso delle varianti la lettera romana le cifre arabe o le cifre romane quindi su tutte queste cose di cui tenere conto e soprattutto nella ricerca dell'informazione quindi io posso mettere covid o mettere anche covid-19 covid-19 è una sola parola covid-19 tira l'innet 2019 e così via infatti e quindi la ricerca di formazione tecnica può essere estremamente complicata perché è tutta la fase di preparazione prima ancora di fare la ricerca devo capire quali sono le cose tecniche che per me sono importanti che io voglio sapere chi ha fatto cose in questa area quindi utilizzare queste parole chiave relativa a una malattia relativa a un tipo di prodotto biologico e così via e quindi insisto molto sul fatto che l'initial technical readings veramente per compire come presentare la cosa come preparare la ricerca utilizzare la conoscenza dei prima di voi sostanzialmente come dicevo quando c'è un dono brevetto pubblicato ci sono le referenze identificate come le più importanti per la progettabilità e quindi anche se l'esaminatore scusate l'inventore ha messo 150 riferimenti se sono 5 più 2 o 3 trovate dall'esaminatore che sono importanti quali sono le letture da fare in primis e poi ovviamente per fare una ricerca tecnica è più importante visto che poi il problema della ridondanza che vi dicevo è importante l'uso dell'inglese che insomma è quello che aiuta rispetto al cinese o al giapponese se volete fare una ricerca tipo tecnico quando coprite tutto in ambito life science quando coprite EPO WIPO SPTO coprite veramente il grosso dell'informazione brevettuale questo ho tirato fuori questo articolo recente che vi invito a leggere non so se ma è estremamente interessante che fatto da un gruppo italiano di l'Università di Bergamo ci sono pochissimi articoli così anche qui torniamo su su quanto sia necessario sul fatto di come dell'impatto dei misspelling della ricerca dei brevetti un gruppo di Bergamo che ha pubblicato su un buon giornale e loro fanno tutta una classificazione di tutti gli errori e le varianti possibili e loro hanno anche quantificato un sistema di text mining dal di là delle mie competenze tutte le varianti per esempio Brayton Cycle che è una cosa di termodinamica nei brevetti allora è scritto Yoi o Bray-Spazio Ton o Brayton Br-Y e qui ho messo tutti i numeri ovviamente il grosso è corretto però se mettete insieme tutte queste varianti voi potete passare di lato queste cose bicicletta anche qui ho fatto questo esempio forse un po' così però è interessante ovviamente Bicycle è 188.000 però hanno delle varianti dovute a cattiva traduzione errori quello che volete ah no no aspetta possono essere corretti se durante l'esame l'esaminatore fa notare certe cose e l'esaminatore concede al mandatario di poterle correggere quindi c'è molto cioè non è che è proprio e certi casi perché vogliono evitare che sia una correzione per degli errori non delle cose cioè fare in modo per avere delle migliori rivendicazioni qui ci voglio dire quindi ma viene fatta però si può sempre mandare all'esaminatore dire in questa pagina ho sbagliato questo in questa pagina manda un punto in questa pagina manda una virgola poi sarà l'esaminatore a dire sì o no che lo può permettere o meno perché se questa correzione in qualche maniera può dar luogo a un'interpretazione verso le rivendicazioni o addirittura cambiare il senso di una frase può dire no il primo ottobre 2021 avete scritto questo non è questo momento di correggerlo cioè siete sbagliati allora è andata e questo è quasi il sistema che tutto quello che è molecole chimiche allora lì ci si diverte CO2 di oxide carbon dioxide è lì veramente su tutta una serie di varianti infinite prima del coffee break appunto io questo sono un sacco forse ne conoscete alcuni qualcuno di voi conosce Patenscope Lens Google Patens The Patisnet sono tutte sono tutte non ne parlo di tutte ne parlo solo di due perché sono i più EspaceNet lo dico già EspaceNet l'odio lo dico lo dico chiaramente non sono qui a contarla su perché 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 è fatto in una maniera che può indurre degli errori gravi se uno non conosce la procedura può dar luogo a degli errori gravi io tra l'altro vi racconto la storia che si è registrato sono due storie dietro a questa storia comunque io SpasNet non lo presento mai lo dico chiaramente perché trovo che tutto adesso no tutto le persone che non sanno come usare e come usare i brevetti può essere può portare gli errori gravissimi invece se non conoscete l'ENS vi invito fortemente a testarlo e il why poi il patent poi the parties Google Patents anche lì ha delle cose molto carine Google Patents ma quando non sono dei brevetti americani quando sono cose un pochino un po' diverse comunque dietro non c'è un team di persone che conoscono i brevetti usano lo stesso team che più o meno fa anche Google Scholar quindi su certe cose sono un po' aleatori però ammetto per dire l'ultima conferenza di cose brevetti che ho seguito prima del Covid c'era tutti i vari provider di informazione c'era la sala di Google che è una sala come questa e c'erano comunque 50 persone in piedi a guardare perché tutti hanno paura che Google potrebbe diventare il nuovo però io ritrovo che per come ancora adesso non è il killing the business per il momento secondo me poi vedremo da qui questo è un passo posso comparare questo qui è una cosa che ha fatto un amico belga per una presentazione tutti questi ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi secondo me Spasnet soprattutto e Google Patents ha dei grossi svantaggi soprattutto per un user non ben ferrato poi c'è l'informazione legale quello che troverete negli uffici l'ufficio legale americano italiano francese spagnolo così via quindi bisogna conoscere un po' meglio quello che è tutta la procedura per capire cosa implica cosa il fatto di non aver pagato non aver fatto quindi queste informazioni per voi vanno forse un po' troppo lontano anzi forse vanno un po' troppo lontano e vanno qualunque tipo di conclusione a cui voi arrivate riguardo a questo devono assolutamente essere validate da qualcuno che ne sa questo qui legal patent poi c'è questo discorso che come poter vedere in parallelo dove sono in Stati Uniti dove sono in America scusate in Cina in Giappone e così via esistono alcuni siti come appunto questo è l'epo register che è una cosa diversa dall'espasnet che però è una cosa uno dei tanti servizi dell'epo e allora lì ci sono delle cose più affidabili ok come informazioni e il global dossier di USPTO ma quali sono tool che potete usare una volta che io so quella domanda di brevetto per me è importante allora io la seguo passo passo sul register potete mettere un alert registrarvi senza alcun tipo con Gmail qualunque non c'è niente da pagare io vi mettete in lista x domande di brevetto e ogni volta che c'è un nuovo evento vi arriva un'email la global dossier non lo fa ancora non so se lo farà mai ma in Europa questo è estremamente interessante e poi ci sono cose varianti cito solamente quello francese e quello tedesco sono gli esempi più interessanti tutto perché il francese veramente fa una cosa per società e quindi per la società i modelli i brevetti i trademark le licenze quello francese è estremamente ben fatto però dobbiamo sapere il francese però è come come logica è estremamente ben fatto però è solo per i documenti francesi ovviamente non per i brevetti italiani e spagnoli quello spagnolo è molto ben fatto tra l'altro veramente un ottimo tool rispetto ai francesi gli spagnoli fanno veramente una interfaccia in inglese fatta bene devo dire è impressionante quello che hanno fatto gli spagnoli i tedeschi fanno i tedeschi scusate il termine ma è un po' rigido un po' così però insomma siamo proprio nel luogo comune però è estremamente ben fatto l'italiano l'italiano allora settimana prossima ci sarà ve lo dico comunque nel dominio pubblico è stato deciso di fare tutti gli esperti tutto chi è esperto nelle ricerche bellettuali in Europa è stato deciso che ogni mese da partire dal prossimo da settimana prossima ci sarà una specie di webinar come cercare informazioni bellettuali nel ufficio bellettuale del mio paese perché tutti i nostri colleghi non italiani quando c'è qualcosa che c'è in Italia si mettono le mani ai capelli e quindi hanno fatto dei grossi miglioramenti però l'UBM o comunque l'italiano bretti marchi e che fa parte poi del ministero del MISE grossi progetti da usare perché il grosso problema di quello italiano è il problema dell'aggiornamento cioè le informazioni vengono caricate a blocchi nel tempo ok quindi non è che oggi cercate c'è aggiornamento ieri ok può essere ci sono delle ok delle sincronie nel tempo passato anche diciamo adesso non so il sospetto di dire sia una prossima cosa perché c'è anche la direttrice che presenta quindi vedremo cosa ci sarà comunque grossi miglioramenti però anche lì da utilizzare con molta cautela soprattutto perché a livello di formazione tecnica la traduzione dei brevetti concessi in Europa e poi validati in Italia può essere altalenante di qualità quindi comunque va fatto cioè va fatto se avete attività in Italia va fatto però insomma il livello di qualità di ricerca che avete in altri paesi è migliore e poi la commercial info quindi tutto quello che riguarda questi aspetti li vedete in parte nel testo del brevetto li vedete nei nomi degli inventori degli applicanti e poi come vi farò vedere dopo ci sono altre modalità di cui volevo parlare quindi per chiudere per il coffee break quindi dal documento base ho preso sempre questo PCT del CRISP attorno si è tutto un sistema di informazioni brevettuali che siano tecniche regali e commerciali in cui a seconda del momento in seconda dell'uso dovreste avere un po' di interesse a cercare e ne parleremo poi per cosa vedete quindi le banche dati allora se esiste nella letteratura scientifica penso che tutti voi conosciate PAMED molti penso che utilizzano Google Scholar immagino o meno qualche volta c'è messo il naso dentro altri siti di informazioni che usate scientifica sono scopus quello a pagamento dipende se web of science ma quali sono a pagamento si da un spagamento ma l'università paga non è che ok Shiav si Taiwan quale Shifander ok ma quello poi per acquistare l'articolo poi dopo Shifander no si ma poi per l'articolo però alcuni articoli poi se sei in università poi li puoi ricevere Shifander gli articoli pdf si e poi prendi però da un'altra parte il full pdf ah beh con l'università grazie no allora qui la grande differenza è che rispetto al settore dell'elettoratura scientifica c'è un buona quantità e un buon disponibilità di tools free ci sono anche quelli commerciali non li disprezzo però per quello che in genere al vostro dello si può fare si può fare delle cose molto carine e molto buone ovviamente sono banche dati che hanno una logica un po' diversa a quella dell'elettoratura scientifica perché il documento di base è diverso c'è questa idea della progressione nel tempo e quindi come possono cambiare c'è la patent family quindi è un po' un gioco che ha delle regole diverse tutte queste banche dati sono quelle appunto promozionali come quelle del WIPO o di Lensk di cui discuterò dopo sono quelle delle uffici brettuali che hanno un obbligo di disclosure di loro quello che pubblicano ok però i metodi con cui si possono cercare i documenti nelle banche dati degli uffici brettuali italiano spagnolo così via sono molto variabili non solo sul fatto della lingua quindi se c'è o non c'è un'interfaccia in inglese valida o meno ma proprio a livello anche proprio di logica quali sono i field quali sono i campi di ricerca disponibili che in quello statunitese non ve lo mostro lo statunitese l'ho appena cambiato e per chi è dentro queste cose è bellissimo poi è tutto interfaccia lettera quindi codice punto due lettere per il field punto cioè una roba che io non lo so cioè è divertente si può fare delle cose bellissime però per chi ha meno di 30 anni penso che sia a livello di andare a cercare sul sul sito cinese perché veramente bisogna essere i nervi solidi per farlo comunque un'altra cosa molto utile e interessante che è un po' diversa che è molto diversa dagli uffici e anche un po' diverso rispetto a quello di letteratura è che queste banche dati possono avere la possibilità di esportare i dati in formato CSV Excel PDF molto variabile e questo tipo di formato di esport probabilmente può fare tutta una serie di analisi post ricerca che magari sul momento non avete voglia di fare comunque complicata ma poi dopo quando vi esportate tutti i tato il gastro il nome degli autori fate il vostro file Excel usate molto Excel poco? eh? quando si vuole dare allora visto che qui parliamo di molti documenti il passaggio via Excel è quasi inevitabile direi però insomma questa è un'altra cosa importante poi io cito Patternscope anche se non soprattutto per un motivo perché Patternscope ha un sistema di traduzione in linea traduzione sul momento dei testi in inglese o in italiano però se volete fare qualche risata qualche mese fa l'ho provato c'erano delle traduzioni in italiano un po' un divag però in inglese i testi cinesi o giapponesi per quanto lo capisco fa delle cose bene quindi sono diversi è fatto molto bene quindi se vi incontrate dei documenti in tedesco in francese benissimo linguasiati che sembra un po' meno bene però insomma è un'ottima cosa e comunque il fatto che tengo a precisare quando sono delle cose serie importanti prima di prendere decisioni o capire dire a una persona che è nel settore che confermi quello che è la vostra ricerca o la vostra interpretazione una cosa importante che per me non è penso che sia questo tipo di ricerca di formazione scientifica e non solo virtuale è capire che in questo settore voi avete informazioni tipo formato test formato figura il calculation code graph quindi non tutte queste informazioni sono ricercabili su stesso livello purtroppo insomma indicizzazione del tutto delle immagini è molto discutibile quello che è importante perché voglio sapere comunque le legend le descrizioni delle figure sono nel testo quindi potete cercare cioè non sono le legend non l'avete mai visto non c'è il testo sotto nella pagina del brevetto avete solo il numero e poi all'interno della domanda del brevetto c'è figura 1 c'è questo quindi potete cercare all'interno del testo perché c'è una sottosezione description of figures o description of drawings e quindi tutto il gioco ed è un gioco abbastanza complicato di capire qual è rispetto ai criteri che utilizzate in quale zona siete quindi la zona seguiamo un articolo del 2011 che uso sempre perché è l'immagine che mi piace molto quindi il gioco è quello di capire trovare la giusta combinazione che da un lato vi permette di essere più vicino al verde che sono relevant retrieved e quindi avere il minimo di rumore possibile rispetto a tutto quello che potete cercare oppure questo va male nel senso che avete molto rumore e oltretutto trovate delle cose che non hanno niente a che vedere a quello che volete fate una cerca molto completa ma c'è troppo rumore quindi quello che vi interessa è solo il 5-10% poi c'è il caso peggiore quindi questo è una cosa che vale anche in plan med io vi faccio poi vi mostrerò rapidamente le due videate a destra a sinistra lens e a destra e patent scope hanno delle interfacce molto simili per certe cose tutta una struttura di ricerca grazie alla quale potete individuare preliminarmente definire le date le collezioni i paesi e così via si possono tutta una serie di varianti relative a solo i bretti concessi questo è il grande vantaggio di lens che potete cercare solo i bretti concessi solo il fate scope non lo fa una cosa che è abbastanza mostruosa per me ma non lo vogliono fare a quanto pare non c'è neanche possibilità facilmente di estrarre e la cosa importante di lens che trovo molto utile che è una sorta di google scholar in meglio nel senso perché vi dico questo perché avete due portali anzi tre portali avete il portale brevetti il portale letteratura scientifica che è pammed più altre risorse e il portale sequenze relativo ai brevetti quindi avete questi tre portali avete i links delle informazioni quindi se trovate un articolo potete trovare quali articoli scusate quali brevetti hanno gli stessi autori come inventori o quali articoli sono citati come preverati nelle brevetti non è completo lo dico già ma hanno l'ens è una è dietro c'è una foundation australiana che riceve soldi da Bill Gates insomma da un tot e hanno fatto questa cosa che è splendida secondo me perché trovo che è un google scholar in meglio perché ovviamente avete una capacità di poter fare delle ricerche a livello molto raffinato a livello di prossimità dei criteri e in parallelo saltando da sequenze brevetti articoli che difficilmente è uguale poi non è sempre completa non è sempre precisa ci sono delle cose un po' strani tanto però veramente vi invito a darci un'occhiata patent scope è solo brevetti fanno qualcosa di non patent literature però ve lo dimenticatelo perché è una copertura ridicola però è la struttura quindi tutta una serie di funzioni comuni utili quindi copertura principale ricerca full text questo claim con ricerche molto complesse quindi non semplicemente parentesi ma anche proximity operator date potete fare delle cose estremamente sofisticate in parte possibili anche solo selezionando delle caselline quindi c'è l'interfaccia lettera classica cioè quella che ho imparato su cui ho cominciato a lavorare ma c'è anche l'interfaccia aiutata più facile ci sono una scelta infinita di criteri sono dei sistemi di alert e di data export quindi potete fare degli alert che poi vengono rinviati sul vostro email privato o un gmail qualunque non c'è nessun tipo di controllo di questo se dovete registrarvi non ricevete spam non ricevete cose strane niente è abbastanza sicuro rispetto appunto di ciò good analytical function very good alt file soprattutto per pattern scope i banche dati come dicevo prima nazionali sono un po' più antrenanti di US bellissimo però bisogna averci la testa e Spasnet lasciamo perdere e il coreano è fatto molto bene il spagnolo è fatto molto bene anche come interfaccia in inglese però ovviamente voi cercate solo i coreani nei partiti è fatto bene però è fatto solo per certi paesi quindi è utile da tener conto ma non è standard e poi appunto quello che volevo dire sono delle forze dei due quindi per certe cose è meglio pattern scope per certe cose è meglio lens cosa è meglio pattern scope lì c'è un sistema di verifica della qualità dei dati molto più rigorosa la messa a giorno dell'informazione molto più precisa anche se c'è qualche salto ma è precisa c'è un gruppo di informati di Ginevra che fa solo quello informazioni procedurali molto quindi legal information più affidabile il sistema di translation rapido e ben fatto per certe cose più lineare per come vedere le informazioni e links e search features e poi c'è tutta la parte sulla chimica se voi siete interessati in chimica potete fare ricerche anche per INN anche lì non è completo però potete disegnare le strutture quindi però non c'è niente sulle sequenze di DNA proteine cosa c'è invece in lens c'è una cosa ricerca brevetti contro brevetti non concessi cioè domande rispetto a brevetti concessi readable pdf per la pattern scope per motivi che mi sfuggono attualmente il pdf quasi nessuno è readable in lens potete prendere il link di lens del pdf e spedirlo a qualcuno e quest'altra persona o se vuoi tenerlo nel vostro o comunque il vostro excel o comunque altra cosa potete cliccare e andate sul pdf che a meno per i pct e potete fare la ricerca nel testo del pdf che in pattern scope non potete farlo tranne alcuni casi cioè è l'inverso in pattern scope è possibile in alcuni casi invece in lens e non è possibile in certi casi la cosa utilissima che è una cosa che mi salva un sacco di tempo title abstract claims sono sulla stessa pagina html quindi il discorso che facevo e le pattern classification un'unica pagina che può essere molto lunga ovviamente cioè molto crescente che però è a finestra cioè è a saracinesco come chiamare se la gente si può rendere più piccola o più allargare quindi potete già fare se avete qualche dubbio potete aprire tutto con il ctrl f su vostro computer potete cercare title abstract claims ovviamente sono inglese è più facile e anche le classificazioni sono tutti link alle classificazioni ben fatti sono tutta una serie di sistemi di analisi dei dati estremamente sofisticata e non hanno la ricerca per strutture chimiche ma hanno la ricerca per sequenze nei brevetti e questa è una cosa che nessuno non ha pagamento lo dà non è completo ma anche lì ogni ho fatto una cosa che è per me è spaventosa cioè di complessità ogni sequenza che c'è una domanda di brevetto che è nel sequence list in quello dell'ST26 che dicevo hanno creato una pagina a se stante che può essere salvata in formato fasta penso che sapete in formato fasta e quindi potete inviare il link ottenere il link alla sequenza in formato fasta di ognuna delle sequenze è una cosa che forse per voi sembra così ma è una cosa enorme soprattutto perché sono in brevetto con centinaia di sequenze fanno la ricerca il motore di ricerca che permette di distinguere tra proteine e DNA proteine e DNA di una certa lunghezza quindi potete fare veramente delle cose che patenscopio e anche gran parte anche uno di quelli a pagamento non fanno tutto per quello che è bio life science questa cosa perché alla base è una struttura che era nata da un'istituzione australiana che faceva solo informazioni biotech quindi hanno veramente loro sono nati a quello poi una quindici di anni fa o meno hanno fatto su tutto all'epoca indicizzano solo i brevetti life science e poi hanno deciso a un certo punto facciamo tutto e loro appunto facevano solo life science perché estraevano dalle banche dati principali tutte le informazioni sono per certe classificazioni quello che vi dicevo prima sono essenziali appunto scusate e poi quello che ho fatto molto bene è quello che dicevo del links sighting sighted quindi rispetto a parte super lo potete fare ma solo in parte non è poi complicata lì veramente avete il link boom date subito al brevetto che lo cita che non lo cita l'articolo ovviamente sta indicizzato in lens ok l'help il lens è una cosa un po' strana ha voluto fare una cosa un po' così certe volte ci sono delle cose che non sono messe a giorno nell'help che invece sono nel sito quindi però la parte patents c'è e va letta perché spiega bene perché è un sistema sintasti di ricerca che è diversa da quella di patentscope cioè non totalmente diversa però in alcune cose sono diversi patentscope è una cosa più classica anche perché loro non fanno veramente un libricino che voi potete qui non c'è mentre in lens in patentscope potete veramente c'è un user guide che loro rinnovano ogni x mesi e che sono 70 pagine in cui spiega bene o meno abbastanza bene non sempre le funzioni meno fondamentali non faccio delle grandi ricerche rispetto all'esempio che volevo fare per esempio la ricerca che ho fatto cosa che era covid è proprio la cosa più stupida che potevo fare in questo periodo quindi avete una marea di possibilità nel sito quindi non passando via excel ok nel sito per generare tutto questo tipo di rappresentazioni di frequenza di inventori di cpc a spicchio a colonne poi la cosa interessante è che poi quando voi cliccate o su questo o su questo i documenti che sono dietro a quella colonna o quel numero possono essere estratti ok quindi non avete bisogno ok io voglio solo solo quelli di pfizer covid pfizer eh clicco su pfizer e lì solo quelli c'è già i miei 26 lì non è che devo fare una nuova ricerca ok quindi in qualche maniera facilita se alcuni di questi criteri come i paesi gli applicanti gli IPC o i dati ho voluto solamente quelli di alcune date c'è la modalità di metterlo nella nella search string nella strategia di ricerca ma potete anche sul cliccare voglio solamente vedere io ho il 2022 schiacciate 409 e ti chiedete 409 e potete andare per fare la vostra ricerca qui le grosse differenze che dicevo qui quindi chemical compound search pattern scope quindi qui potete or cercare per parola chiave ENN l'inci smiles qualcuno sa cosa sono? ok quindi se sapete potete usare anche se non copre tutto lo fa nel PCT non lo fa negli altri però già per non sapere così se avete l'inci o l'INN o lo smiles di un composto potete fare questa ricerca e poi successivamente integrare i vostri criteri relativi alla società l'uso il paese e così via o potete disegnare anche con possibilità di fare i famosi maccus cioè non so disegnare la molecola precisa ma indicando che in quella posizione voglio X in quella posizione solo elogeni in quella posizione solo catene alifate quello che volete questo invece il Pazzec ci sono altri il lavoro bioinformatico che ci siete qui è enorme e qui potete fare tutta la ricerca con questa sequenza di DNA e proteine e estrarre avete singoli singoli sequenze ovviamente e questo è il grosso problema se una donna in brevetto conseguenza è stata pubblicata con il PCT US application S-Granted IP Granted avete 5 volte la stessa sequenza ok quindi poi ci sono dei metodi per raffinare e fare quella pulizia però se fate ricerche così avete trovato la stessa sequenza che è stata pubblicata 5 volte quindi sono un discorso che dicevo precedenza la stessa cosa con le parole chiave fate una ricerca con certe parole chiave 20 documenti o 200 documenti poi se andate veramente a livello di famiglia magari sono solo 10 e quindi in qualche maniera più gestibile a livello di lettura c'è tutto il post processing quello che chiamo io post processing cioè se non siete soddisfatti ancora della rappresentazione o dei criteri potete estrarre dell'informazione in formato XLS in pattern scope in CSV CSV in Lens Lens permette di sportare molto di più pattern scope solo alcuni campi molto pochi questo è un po' il limite Lens potete veramente sportare tutti i link veramente adesso io posso anche messo con la successiva ecco cioè in pattern scope avete massimo 10 colonne in Lens ne avete tipo una trentina di colonne ok quindi potete veramente tutte le adesso io ho fatto un screenshot ho fatto earliest priority date priority date per esempio il priority date in pattern scope è totalmente inaffidabile loro mettono solo gli IPC mentre qui adesso non si vede perché è talmente lunga mettono gli IPC e i CPC separatamente non mettono la priority numbers non la mettono sempre poi magari c'è qualche errore ogni tanto non è che si è sempre però veramente per catturare poi potete fare il vostro sorting mettere i colori fate quello che secondo voi è meglio sapete fare meglio in Excel allora parlo di trademarks perché ne parlo di trademarks per la semplice ragione è un po' una transizione dell'ultima parte su quello riguarda la parte relativa all'alternative patent information ho chiamato supplementary patent information che molte società alcune società visto che tutto nell'ambito consumer quindi meccanico così via visto che hanno già una visione di quello che potrebbe essere il prodotto hanno questa pratica di depositare non solo uno ma una decina anche di più di tre ma con leggere differenze qui ho fatto un esempio ho messo Covid scusate l'ho usato da un'altra presentazione che ho fatto solo su ricerca per Covid e vedono se c'è una ricerca positiva di non brevettabilità ma di essere concesso il tema come essere unico ok e su questi dieci poi decidono quello che per x ragioni quando il prodotto è pronto lo usano per fare promozione e la messa sul commercio questa è una pratica che è in ambito farmaceutico abbastanza comune penso che sia anche in altri ambiti quindi visto che però i tre ma sono pubblicati qualche mese dopo vi rendete conto che se avete qualche società che sapete che è attiva nel settore e che pensate che si sta facendo qualcosa di interessante e utile potete fare delle ricerche e questo è la banca dati global brand del del WIPO che è un'altra cosa bellissima veramente per chi piace per fare delle cose splendide anche perché loro fanno ricerche anche sulla suono simile del trademark ok quindi sono questa fuzzy search se qualcuno conosce un po' queste terminologie quindi proprio per vedere quali sono le somiglianze tra possibili trademark che possono avere giusto una lettera in più in meno o che magari i why queste cose così e che brand può essere tutto quindi anche design è un gioiellino questa cosa questo qui è l'esempio che volevo farvi allora i i famosi vaccini contro il covid sono stati depositati sono stati messi sul mercato inizio 2021 però chiaramente le società che sviluppavano questi vaccini mentre la domanda è ancora in fase di completamento hanno già depositato tutta una serie di nomi per esser sicuro di poterlo bloccare quindi per esempio nel caso di Vaxevria quello di AstraZeneca hanno usato un titolo molto generale perché nei trademark c'è una definizione che poi non dicono chiaramente per il covid è un titolo di definizione molto stringata fabbatico preparation e substances e l'hanno registrato l'hanno depositato a dicembre quindi prima della messa sul mercato però era noto era noto ben da prima addirittura il ComiRNAT quello di Biontech hanno depositato Filing maggio 2020 ok hanno depositato la prima domanda di vetro l'hanno depositata a inizio aprile 2020 ok quindi dopo che hanno già depositato due o tre priorità nel frattempo hanno depositato tra gli altri questo e che poi solamente intanto l'hanno registrato ottobre quindi veramente rapidissimi ok quindi ancora prima di terminare il PCT hanno terminato il PCT a aprile 2021 quando già ero sul mercato ok questo è un caso eccezionale non voglio dire che sia la regola però in un altro caso invece il Soberano se l'hai mai sentito quello cubano che non è mai arrivato qui in Europa però è già registrato tra l'altro anche con una bella colore e così via nel caso in cui ci arrivasse loro il trademark ce l'hanno ok quindi è registrato all'istituto Finley dei vacunas istituto di vaccini e loro l'hanno depositato a settembre è tutta prima del Baxevria di di Astrazine sui scopi della ricerca adesso non voglio andare molto nei dettagli visto che comunque se ci tento di fare un piccolo test vado un po' rapido l'idea è che a seconda della vostra disponibilità di tempo e competenze e interesse non si può pretendere sotto frequenza di uso dei dati proiettuali non si può pretendere di essere sempre come dire efficaci efficienti nel fare delle ricerche perché comunque bisogna avere un minimo di abitudine perché non è non è non è non è Google insomma sono molti campi possono sfruttare per essere sfruttati bene queste banche dati vanno veramente utilizzate con un minimo di continuità ma non è neanche per persone che fanno P&GD o P&GD non è neanche come dire una roba da informatici puro per niente l'idea è comunque che ben studiare un po' quali sono i criteri le parole che ho rispondendo a inventori possibili società possibile per permettervi di identificare un nucleo di riferimenti brevettuali che possono essere poi usati come riferimento per ampliare la ricerca in direzioni diverse sia sulle società che già conoscete sia di quelle che non conoscevate o accademici che non conoscevate e che magari e questo è il caso spesso degli alcaldici americani un esempio che cito spesso quello che è successo spesso con i alcaldici americani loro hanno il loro report interessante per una donna in brevetto tipo in aprile fanno il loro provisional in giugno cominciano ad elaborare un primo articolo per qualche buona rivista tipo P&AS o JBC o altre cose nel frattempo deposano una nuova priorità magari durante l'estate o inizio autunno prima del periodo delle conferenze periodo autunnale magari presentano un abstract a una conferenza che gli piace che cominciano già a dire alcune cose ad aprile dell'anno dopo fanno il loro PCT o US Definitive nel frattempo hanno raccolto abbastanza materia per fare veramente il bell'articolo quindi sottopongono l'articolo più o meno stesso trimestre stesso periodo in cui finiscono le PCT l'articolo poi il PCT viene pubblicato sei mesi dopo tipo in ottobre ok e magari l'articolo legato alla donna in brevetto viene pubblicato durante l'estate o a tre mesi prima o tre mesi dopo questo è la pratica che trovo la più logica sotto un ambito accademico potrebbe fare in modo veramente questo tipo di meccaniche sia lo scopo dell'articolo sia lo scopo della donna in brevetto sono non sono o uno l'altro o prima uno e proprio l'altro ma veramente fare in modo che ho già un'idea di ho primi dati faccio una priorità magari poi comincio a mettere in sé qualcosa per un abstract per l'autunno però nel frattempo visto che durante l'estate sono andato avanti con le mie ricerche ho degli altri dati faccio una nuova priorità e questo è non ho fatto per questa pensata ma ho trovato diversi esempi di questo tipo di pratiche per cui la pubblicazione sulla lista scientifica importante e il PCT sono distanziati da uno o tre mesi uno o due o tre mesi uno dall'altro qualcosa di prima l'articolo poi il brevetto o viceversa dipende poi dall'articolo da quante cose quindi lo metto qualche qualche good practice o qualche consiglio di poter cercare di utilizzare sia lens e pattern scope che hanno usi e criteri diversi di ricerca studiare un po' il CPC IPC visto quello che permette di fare soprattutto lens ma in parte anche pattern scope veramente che si faccia sui vaccini o su farmaci piccole molecole a scopo oncologico anti cancro voi avete piccole molecole poi il codice per oncologico che è A61P35 l'altro è A61K31 li combinate e già avete un dataset che è comunque di alcune migliaia o centinaia di migliaia di documenti su cui poi potete sovrapporre i vostri criteri relativi a tipo di cancro tipo di molecola e così via ci sono diversi nel mondo delle informazioni obiettuali ci sono diverse modalità di definire il tipo di ricerche ci sono grossomodo tre aree poi farò le aree di landscaping capire un po' chi fa cosa senza troppo riferimento a quello che è la data magari negli ultimi 5 o 10 anni perché spesso in un settore è veramente rapido che oltre i 10 anni sono cose relativamente vecchie però dopo può essere importante comunque tenere conto anche i più vecchi se è necessario per le questioni di brevettabilità perché appunto sono ricerche di brevettabilità in cui la data in cui un altro comando di brevetto vostra o di chiunque l'altro è la data di riferimento e quindi vi importa sapere tutto quello è stato pubblicato o depositato prima di quella data e quello che è stato trovato dopo sia la vostra o degli altri e poi sono le ricette più complesse di cui io non voglio neanche andare nel dettaglio sono quelle che ho chiamato le freedom to operate quindi veramente capire se un prodotto rispetto a quello che è il brevetto rispetto a quello che sono i brevetti degli altri è libero da qualsiasi tipo di licenza di essere concesso da un'altra società in un certo paese per certi usi perché appunto il freedom to operate purtroppo è una cosa di cui la gente si riampera un po' la bocca ma la vera freedom to operate se è fatta per diversi paesi per tutti i prodotti i suoi usi è qualcosa che può essere estremamente lungo estremamente complicato estremamente caro quindi un vero freedom to operate fatto bene anche rispetto a quelli che sono eventuali problemi relativi a potenziali ragioni per il quale la domanda di brevetto potrebbe non essere concessa e quindi non sarebbe importante per lo sfruttamento o eventualmente che se anche su un brevetto concesso questo brevetto concesso a delle errorini o cose che può attaccare qui però si va in un ambito di analisi e di completezza dell'analisi che va penso molto più lontano di quello che a voi possa interessare sull'immediato però capire che sono diversi tipi di livelli cioè landscaping per capire l'attività già più complicata perché io devo tenere veramente conto della data prima o dopo di una data di riferimento importante e ovviamente se voi volete depositare volete sapere il più possibile però visto che sono i famosi 18 mesi voi fate la ricerca sui brevetti aggiornati al massimo sei mesi fa quindi navigate un po' a vista ovviamente però comunque si può già vedere quello che è rilevante a livello brevettuale come depositato confermato agli ultimi fino a sei mesi fa e quindi questa è una cosa che ho preso da un altro articolo interessante poi parla di altro però ho preso tutta questa immagine appunto che nella vita è quello che vi dicevo anche prima sul fatto che questo 12-18 mesi sul fatto che c'è quello che viene chiamato anche life cycle management non è chiamato non life cycle del brevetto nel senso che una buona strategia di protezione del brevetto attuale dove coinvolgere l'idea di dire ok io deposito questo adesso nel prossimo 12-18 mesi posso fare certe cose nel prossimo sei mesi posso farne altre quindi modificare e poi dopo si dispende il mio settore qui si fa l'ambito delle farmaceutiche con startup successivamente nel tempo possono creare non so se si vede formulation patent process patent method of use e quindi fare in modo di poi delimitare delimitare creare dei nuovi territori di esclusività brevettoale attiva degli usi e ovviamente in questa maniera estendere la potenziale durata non avete mai parlato sento parlare di second medical use ok quindi il fatto che un prodotto sia stato definito come utile per un certo tipo di indicazione che poi si scopre che può essere anche utile in un'altra magari con qualche differenza nella formulazione nell'uso se è orale se è iniettato e così via e queste sono cose su cui tutte le grandi società sono estremamente cioè il fatto che sia una donna in brevetto lo ripeto ogni volta che mi capita è veramente l'inizio di una storia ok e sta a voi decidere fino a dove andare rispetto ai vostri obiettivi disponibilità risorse tutto quello che volete però è veramente l'inizio di un percorso di cui deve essere un minimo lucidi perché può veramente prendere parecchio tempo energie essere in qualche maniera perennemente vigilante ho giusto tirato fuori estratto dal questo testo del WIPER 2015 tutto per tirare fuori alcuni è un documento non è enorme sono 50 pagine è gratuito trovate cercare tutto quello che volete e qui ovviamente l'autore che conosco Antonio Tripp è un po' un fatto di guru di queste cose per il WIPER ha fatto questo report in cui ha individuato queste sei tipologie di ricerche landscape mapping una differenza che è un po' relativa watch arts anche lì una cosa importante se veramente vi lanciate in questa cosa veramente il fatto non solo la questione dei 18-12 mesi quindi del delay ma il fatto di essere vigili relativamente spesso a fare delle nuove ricerche per vedere cosa nel frattempo è stato pubblicato o eventualmente concesso in qualche maniera diventa quasi un obbligo professionale freedom to operate clearance patentability validi poi general statistics mi fa un po' io ho voluto fare una struttura un po' diversa ma forse un po' troppo complicata comunque io ho messo in questa matrice quindi il tipo di informazione quindi tecnica legale commerciale rispetto alle entità che potrebbero sotto a livello commerciale una domanda in brevetto e le tipologie quindi quindi ho messo patent landscaping voi soprattutto a livello tecnico meno a livello legale un po' di più a livello commerciale proprio come avere un po' un'idea voi dicete negli ultimi dieci anni quindi a partire da una certa data patent trends lì è molto variabile questi sono molti studi di econometria anche degli studi forse anche quelli che anche il vostro granieri fa o o si occupa per cui decidete ma questo non è tanto proprio di capire negli ultimi dieci anni quanti società hanno depositato in questo settore in un altro perché poi quali sono le tendenze tecnologiche quello è un po' voglio dire uno studio che forse per voi non è esattamente un studio che potrebbe essere interessante ma lì di solito c'è veramente da visto che poi si vuole avere proprio la visione completa depositati dal 2010-2020 come tale che nel 2021 avete tutto quello depositato quindi è più a livello poi econometrico o studio di innovazione più che strumentale ai vostri attività company profiling quello può essere molto interessante se sapete che è una società che potrebbe eventualmente interessata al vostro prodotto o che potrebbe essere un competitor per capire cosa fai quindi mi focalizzate tutto quello che questa società mi interessa per capire anche per imparare quello che è storia di successo che sia Biontech che siano altri quello che volete quindi capire e inzienare quello dipende il variante tempo dipende da voi patentabilità e validità invece nel senso opposto quindi voi avete una domanda di brevetto depositata o un vostro competitor dopo una certa data voi volete sapere su quello che potrebbe essere usato per invalidare la mia o l'altra quindi è tecnica legal visto che il contenuto tecnico che è importante è poco importante commercial se sapete anche lì che qualche società è particolarmente attiva l'informazione commerciale o dell'entità è importante freedom to operate lì c'è tutto lì non ci sono limiti per questo che è pesante perché sia l'informazione tecnica che legale che commerciale e anche il tempo perché anche se io dico ok io ho un anno di brevetto depositato il 17 giugno 2015 è stata brevettata ok però può essere anche brevetta diciamo è valida ma da un lato purtroppo gli esaminatori possono aver concesso delle domande di brevetto depositate successivamente perché hanno in qualche maniera non preso in considerazione la vostra il brevetto non solo depositato ma anche concesso quindi capire se un brevetto concesso successivamente potrebbe essere in qualche maniera invalidato sulla base della propria o anche di un'altra pre or altro ok e poi c'è il discorso della dominanza viene chiamata per cui se ci sono dei brevetti che definiscono in maniera molto vaga o ampia tutta una serie di attività mi parlava per esempio della telefonia per l'orogramma diciamo mettiamoci qualcuno che ha fatto una domanda di brevetto o che ha concessa però ha considerato solo certe modalità e non altre le indicazioni concesse ok le indicazioni concesse sono vaghe vaghe ampie scusate non vaghe ampie però sono delle soluzioni tecniche che lui non ha suggerito ok voi potete avere la domanda concessa potete anche sfruttarla ma dovete pagare una licenza a chi ha ottenuto un brevetto su un concetto più ampio del vostro e quindi può essere questo tipo di considerazioni e soprattutto a livello tutti i livelli ma anche farmaceutico può essere estremamente delicato e complicato da definire per cui non è esattamente il vostro settore e poi c'è il patent monitoring lo chiamo alerting come volete in cui a seguito di una di queste 4-5 varianti vi dici ok adesso per me è importante quindi in maniera regolare con i criteri che avete definito in precedenza fare ogni mese ogni settimana ogni trimestre ogni sei mesi un aggiornamento questa è l'idea che ogni sei mesi quindi questo pubblico io conosco tutto quello che è stato fatto prima di questa data adesso voglio vedere quello tre mesi dopo sei mesi dopo un anno dopo alternative pattern info e poi dopo facciamo la parte dedicata al test al test al case study come volete come dicevo l'anno di brevetto è l'inizio di una storia questa storia si fa nel dominio pubblico il dominio pubblico è tutto quello che può essere identificato a livello delle banche dati ma quello che voi o i competitori vogliono rendere pubblico attraverso i propri canali di comunicazione attraverso il proprio materiale informativo e che può essere per un periodo solo confidenziale ok solo a livello di investimento quindi con CDE ma in un altro periodo potrebbe essere per avere una maggiore visibilità rispetto ai investitori e così via o clienti potenziali e così via essere sul sito internet cataloghi twitter altrove quindi in questo tipo di attività self che chiamo self promotional visto che c'è il problema sempre non solo in Italia il fatto di avere i soldi per poter portare avanti un programma di cui ci sarà degli introiti reali a 3 5 7 10 anni quindi c'è un cash burning rate elevato e che cresce col tempo si cominciano a fare delle cose a livello clinico e di manufacturing CMC FDA tutte queste belle storie a questo punto dovete assicurarvi di avere i fondi questi fondi devono essere in qualche maniera trovati attraverso collaborazioni licenze co-development e quindi in qualche maniera dovete mettervi in valore a conferenze e così via e non potete in tutti questi contesti chiedere a tutti i nostri DA ok e quindi quello che ho più o meno riassunto in maniera più o meno chiara e efficace le possibilità relativi ai brevetti di poter avere degli alti livelli di visibilità anche di impiego quindi in qualche maniera veramente l'uso strumentale però che spero sia comunque un minimo etico e corretto dire ok io questo dono di brevetto posso fare certe cose una certa know-how poi certo quello che poi è il trade secret e quindi in qualche maniera possa essere per investitori e istituzioni particolarmente interessanti ora io ho fatto uno schema molto inventato la settimana scorsa su quello che sono questi alternative patent information lo classificate e quindi quello che voi potete eventualmente mettere sul dominio pubblico quello che voi potete imparare a imparare potete arrivare a sapere che fanno gli altri e ho messo quattro categorie quindi scientific literature e vi spiego perché ho messo tre casi tre casi principali linkedin twitter e lì c'è tutto quello che un un impiegato può non può vuole mettere sul proprio profilo privato quello che fa o non fa o la web page del proprio laboratorio ho visto cose abbastanza discutibili diciamo addirittura trovate nel search report posso dire un professore belga che aveva messo nella sua web page di laboratorio certe cose che non è anche il famoso conclusion si eh cosa adesso non posso dare comunque l'esaminatore ha messo nel suo rapporto di ricerca quello che avevo visto prima avete visto prima non un brevetto non un articolo adesso si citano per dire nel caso del covid adesso citano dei youtube dei video di youtube di presentazione come priorata ok non ho citato ho dimenticato youtube perché è quello forse ancora peggio da certi versi perché in youtube veramente passa di tutto e nel caso dei vaccini covid sarà un argomento dirimente twitter perché adesso sono anche professore tutti che fanno twitter e linkedin che possono dire ok sono contento che ho ricevuto sono inventori questo grande libretto e lui non sa questo grande libretto si è stata pubblicata settimana scorsa ma non è stata pubblicata settimana scorsa ok sarà pubblicata un anno e mezzo dopo ok si vedono queste cose quindi disclosing inventorship disclosing patent attività ho fatto ah stiamo facendo ho trovato cose simili si trovano cose simili ho collaborato ho fatto ah sono contento di lavorare con con un caso società ABC su un sistema per promuovere la rigenerazione delle ossa si vedono queste cose si vedono queste cose quindi anche press release queste cose qui che possono insisto oggi come oggi gli esaminatori prima non sono telebanche dati no ben strutturate adesso libere tutte quindi twitter youtube questo dovevo assolutamente metterlo perché youtube è sicuramente uno dei luoghi più più difficile a controllare perché poi c'è il problema della negli altri c'è l'interfaccia lettera quindi cercabile l'altro è video quindi c'è tutto vi dico tutto il case law che sta diventando un caos per cui la patent off sul fatto di come se un youtube video può essere utilizzabile o meno perché c'è il problema della se si può verificare come è stato cambiato dopo una certa data la sicurezza della data di in cui è stato caricato quindi è anche a livello legale un work in progress però la legge è chiara cioè tutto quello che è noto che sia cartaceo visivo può essere utile e quindi quali sono canali company website dove le società come dicevo a livello promozione possono essere più o meno dettagliate qualche volta fanno anche delle cose che non si rendono conto o qualche impiegato non si rende conto e financial website farò l'esempio quello che sono quello è un po' uno step ulteriore che può essere company o financial può essere anche quello dei siti di grant nel caso dei grant americani certi grant sono poi ricercabili quindi si possono trovare delle cose interessanti nei siti di grant soprattutto quelli americani perché c'è un problema di freedom information act FOIA non l'ho mai sentito quindi cose che sono state concessi i fondi si può vedere su quale base e quindi il grant che diceva certe cose può diventare pubblico ben prima che l'articolo il brevetto sia poi realmente reso pubblico quindi la prima cosa sono i termini i conflitto di interesse adesso non so quanti di voi abbiamo mai scritto un articolo in cui un giornale per cui un giornale ha chiesto una dichiarazione di interessi più o meno dettagliata quello che so io quello che ho visto io perché ho fatto uno studio che ho ancora pubblicato ma che voglio pubblicare su quello che riguarda dichiarazione di conflitto di interesse relativi a tutto quello che riguarda il covid brevetti o farmaci o tecnologie di questo tipo poi il conflict of interest è veramente anche lì il giornale ognuno fa quello che vuole non c'è nessuno criterio anche nel stesso giornale ci sono il conflict of interest con forme totalmente diverse certe volte citano i brevetto certe volte non li citano mettono solo l'inventore mettono siamo in fase di deposito di un brevetto si trova di tutto non so se voi avete mai avuto come le conclusion nel senso che si possono trovare delle sorprese interessanti e sfruttabili da un competitor quindi io sinceramente anche se avete qualche giornale in cui su qualcosa tenete il conflict of interest capite bene quello che dovete dire e quello che potete non dire ok quindi in questi conflict of interest text adesso io ho preso anche io una cosa vecchia un anno fa qui ho preso degli esempi di questi questo qui per esempio un articolo dice DHB is co-invento a provisional vaccine patent questo è provisional been licensed quindi indicano il numero di deposito non la data però uno facilmente ci arriva la data with license quindi c'è già una società quindi anche se è depositata a mio nome potrebbe già essere in mano di qualcun altro questi sono due articoli dello stesso giornale che è Nature Communications e qui avete Completed Minister questo è il pronuncio da questo qui provision application come l'altro e loro dicono esattamente SWIN file on the SAR specific monoclonal antibody isolated urine quindi veramente quello che c'è nell'articolo è nel qui era qui era un po' più vago qui qui potrebbe anche essere su un'altra qui potrebbe essere un po' più vago ok questo è veramente questo invece è quelle cose che troppo si vedono spesso si vede qui ci sono mescolate tutte le cose Diamond is co-inventor to patent application were submitted by COC which called SWIN quello più quale insomma un istituto di ricerca americano quello più quale to the USPTO prior to submission of the manuscript status not yet converted quindi danno tutta la storia sinceramente non penso che che Nature Communications l'abbia chiesto ok poi sarà perché poi c'è riscosso dell'istituzione di cui fa parte il ricercatore che gli dice tu devi scrivere questo e non questo quindi è anche questo che nello stesso giornale si possono fare cose totalmente diverse perché gli autori hanno o per scrupolo professionale o per obbligo da parte della loro istituzione o la loro affiliation di scrivere quello di tutto e di più insomma e qui veramente fanno tutto fanno tutta la storia io qui ho fatto per esempio una cosa di un anno fa quindi i giornali qui c'è la lista dei giornali che avevano pubblicato articoli sul covid e quelli sono i giornali in cui c'erano più spesso dei conflict of interest i brevetti ok e qui c'è per esempio su Nature Communications sarà uno di quelli che c'erano più spesso sell c'erano dei numeri di sell dell'issue di sell del 2021 in cui c'erano tre articoli su covid e tutti e tre avevano patent information dei conflict of interest ok tanto per darvi un'idea ripeto questo è un momento particolare tutto quello che volete però vi invito se siete un po' più curiosi interessate potete trovare delle cose estremamente utili e questo è la semplicemente adesso non so se voi sapete ma i conflict of interest sono in parte ripeto in parte ricercabili in PAMED c'è un field separato che si chiama conflict cos'è conflict of interest statements quindi c'è proprio un field separato si mette la parola patent poi ci sono anche quelli che dicono nel conflict of interest no patent is being filed quindi c'è anche questo falso positivo ve lo dico già ve lo anticipo quindi è un po' falsato però quello che è evidente è che questa è la crescita di articoli in PAMED fino allo scorso trimestre qui è saltato fino al terzo quindi tutti gli articoli non covid qualunque cosa quindi vedete questa crescita questa è la crescita degli articoli che indicano un pattern related issue nell'articolo mi sembra abbastanza evidente che non è la stessa tipo di crescita quindi sempre più articoli sono pubblicati in cui in positivo e in negativo si dice c'è o non c'è l'anno di brevetto già pubblicata qualche volta ci sono degli autori che poi sono iper attenti quindi denuncia indicano non ha niente a che fare con l'articolo dico potenziale conflitto che io 5 anni fa ho depositato un brevetto riguardo a questo tant'è insomma non è che mi da quindi c'è di tutto in questa colonna c'è di tutto c'è veramente di tutto però da essere sto parlando da meno di 1000 a 18.000 probabilmente sarà 18.000 in questi anni di 10 anni ok e la crescita di PAMED è di 50% qui stiamo parlando di una crescita di insomma vedete voi insomma almeno 10 volte quindi questa è una cosa che sia voi nel caso che voi pubblichiate essere attenti a quello che è veramente necessario e se vedete un articolo interessante fare lo sforzo e andare a vedere fino al conflict of interest se c'è qualcosa scritto di qualcosa questa è una cosa che ho ripreso da un mio articolo sulla storia dei primi mesi dopo la dichiarazione della pandemia e come già le prime domande di progetto sono pubblicate in Cina il 14 gennaio 2020 praticamente due giorni dopo la pubblicazione del genoma c'erano già io non l'ho saputo subito l'ho saputo qualche mese dopo perché le prime domande di progetto cinesi come dicevo sono state generate scusate pubblicate e concesse a settembre 2020 ok e quindi poi le prime quelle rime europee sono tra marzo già prima della prima metà di marzo Moderna Moderna ha depositato le prime cose intorno a metà marzo dopo Biontech e questa è una storia per questo qui ricordate gli anticorpi anti-covidi che sono stati anche usati per curare Trump all'epo e così via questa è la storia di Regeneron una società che aveva sviluppati loro hanno fatto questa su qui la domanda in brevetto sostanzialmente la storia è questa hanno depositato una serie di priorità tra aprile e inizio giugno al 15 giugno dopo un Express peer review era pubblicato su Science ok hanno depositato i brevetti definitivi PCT US European tra giugno e luglio il primo retto US granted 25 vedete quasi i giorni stessi in cui era stato curato Trump non so se è un caso pubblicazione PCT anticipata non i 18 mesi hanno chiesto che è possibile richiedere la pubblicazione anticipata tra l'altro voi potete mandare una lettera e dire io voglio che la mia per rendere più rapida anche l'esame successivo loro hanno richiesto di pubblicare quindi meno di 12 mesi e io me l'ho fermato lì perché quindi in meno di un anno hanno già due altre domande di brevetto US questo è un caso estremo però è un caso veramente in cui c'è stata veramente una politica evidente nella società di essere clean a livello di disclosure scientific insomma di essere però di fare le cose in una sequenza che era conveniente il problema poi degli altri contenuti che possono essere interessanti è che ci sono oltre a confidenza ci sono quello che può essere citazioni di brevetti nell'articolo molto 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 rari penso fosse quasi male avete mai visto citati dei brevetti come brevetti qualche volta c'è e poi ci sono giornali magari qualcuno l'avete sentito ma l'avete anche pubblicato recent patterns in terapeutics pattern review queste cose così sono dei giornali che per me sono al limite del predatory ok c'è pochissimo peer review c'è pochissima qualità però se chiaramente un articolo di qualcuno che conoscete del settore che conosce l'argomento di cui siete interessati vale la pena darci un'occhiata perché potreste magari avere almeno un aiuto se hai un articolo adesso dico una cosa casi invitore di un certo tipo di chinasi e voi siete interessati a questo chinasi sapete che qualcuno che già magari lavora in una società o lavora in una società o ha fatto certi articoli magari è qualcuno che questo tipo di ricerca nei brevetti e pubblica delle liste di brevetti e così via è uno che magari non è molto bravo alla ricerca di brevetti ma che conosce bene molto bene l'argomento tecnico ha un insight un po' un insider e quindi può essere interessante quello che lui ha trovato quello che poi è drammatico in un articolo del 2017 e che è drammatico il titolo dice tutto Evidence sufficient quality of reporting in pattern landscape in life science un articolo biotecnologico poco citato ma è vero sono trovati un sacco di articoli riguardanti studi sui brevetti numeri trend e così via poi andate a vedere materiali e metodi e metodologie è il 95% dei casi perlomeno deficitare in qualche modo cioè uno su 20 uno su 30 è fatto relativamente bene perché purtroppo a livello accademico universitario anche le società qualche volta non si fanno le cose questo che per esempio questo è un esempio di buon articolo super articolo nei ciobatecnologi in cui abbiamo fatto uno studio Gaviria e Kilic sulla rete di rapporti delle società che facevano network analysis of COVID-19 e marine vaccine patent quindi hanno fatto veramente uno che integra sia joint ownership of patent vaccine poi sub license lawsuit e così via abbiamo fatto un lavoro enorme raccogliendo informazioni delle bancate brevettuali economiche articoli press release e hanno creato questo tipo di network in cui le diverse società avevano hanno delle relazioni talvolta diciamo positive certe volte invece più più conflittuali per un motivo o per un altro company website le società possono estremamente c'è di tutto trovate queste società che non mettono praticamente niente altri che pubblicano anche quali sono le policy aziendali per quanto riguarda i brevetti sono società che mettono delle loro banche piccole banche dati ricercabili noi abbiamo brevetti cercate per parola chiave trovate una società svizzera che c'è una cosa simile abbastanza impressionante anche perché la società che poi non li metteva tutti però insomma c'erano qualcosa come 1500 entries perché trovavano tutti i brevetti anche in paesi esotici di tutti i tipi e quindi era da un lato interessante ma se poi dopo si facevano un pochino un po' le pull ci vedevano che c'erano cose che non c'erano o perché l'hanno fatto una volta e poi non hanno una giornata regolarmente o perché su certe magari sì diciamo alcune cose ci fanno piacere ci fanno piacere che sono altre magari diciamo in un altro momento o solo in maniera confidenziale ma poi ci sono tutti i prodotti dei cataloghi press release e ci possono e quello che qualcuno usa le google advanced search features mai usato no un po' di più no no date ricerca all in text cercare all in text cercare nell'interno di un sito solamente ecco questo sì ma non tutti come vedi non molti lo sanno ok e anche google non so perché c'è tutto se voi andate a cercare questa pagina io poi nella lista ho preso un articolo che cita almeno quelli fondamentali google come tutte le banche dati ha un suo linguaggio di ricerca solo che noi metto patent and search poi tutti gli advertising e tutto quello che volete però c'è un sistema che sia a livello di geografico di data di tipo di sito potete fare veramente delle cose estremamente sofisticate e peraltro che voi avete un sito internet e non trovate quale società ha le informazioni fate site due punti sito della società fate il criterio e magari andate a trovare dei report delle presentazioni delle conferenze ho trovato addirittura dei pdf qui chiaramente anche lì la conversione in pdf può essere di un file a powerpoint può essere fare attenzione perché hanno fatto una conversione grazie alla quale avevano messo un'immagine sopra un testo quindi non si vedeva il testo ma se si faceva la ricerca per parole chiave patent c'era il giallino sotto ma si vedeva la parola quindi sostanzialmente era fatta la conversione ma non tolto come qui il fil di testo e google è andato a trovare questa cosa qui no si trova cioè mi è capitato più di una volta mi è capitato ancora la settimana scorsa quindi anche mettere su internet dei pdf se sono i pdf scusate le presentazioni che sono poi convertite in pdf che non sono adeguatamente ripulite possono essere possono trovare delle cose tramite google adesso io ho fatto un esempio questo qui è l'esempio ho fatto una cosa file type pdf quindi ho limitato solo il pdf quindi non le html o altre cose site ho messo il nome della company quindi ho messo pfizer rosh lons per vedere la cosa più ovvia patent o patents e quindi io trovo per esempio su pfizer ho fatto l'ultimo anno tutto per l'ultimo anno quindi trova ci sono c'erano 201 risultati in rosh c'erano 58 poi dopo uno può andare più lontano quindi sono i press release rapporti ci sono per esempio questo qui è chiaramente una sorta di di catalogo ok e quindi con questo catalogo in fondo si è scritto che questo cover è questo non so se avete mai fatto caso in qualche catalogo in qualche società ma tutto per i brevetti e poi dopo linkedin non ho fatto stupido mettere perché youtube è veramente una meraviglia per questo linkedin anche lì e quello che viene messo per esempio ho messo i nomi ho fatto una cosa ovviamente così su linkedin questa persona angel inventor patent holder non mette i numeri però se vandate su questo sito guardate questa persona qualche mattina per qualsiasi motivo indica che è inventor quindi in teoria potete andare su questo nome a cercare solo inventor ok che sia il famoso self promotional che vi dicevo in passato e quindi in teoria possono essere i brevetti già già pubblicati e quindi semplicemente qualcosa che vi aiuta potrebbero essere non pubblicati financial document allora documenti finanziari questo forse è un step un po' più alto società sono quotate in borsa come forse sapete una volta che si entra in borsa gli investitori devono sapere cosa succede nella società e così via e quindi sono delle obbligazioni di descrizione di quello che si fa che si ha che si dice abbastanza ampie e questo tipo di documenti sono forniti in Italia alla Consov gli Stati Uniti alla SEC voi mai hai già sentito questi nomi per essere quotati al Nasdaq queste cose che hai già sentito e questi documenti come l'ufficio preletti le autorità che regolano il mercato finanziario possono decidere di metterle in libera ricerca in libera distribuzione e quello che varia tantissimo la società è quotata però attenzione se la società quotata collabora con una società non quotata può dire io lavoro sotto licenza di collaboro con non può deve dire e quindi indirettamente se la società B non è quotata si può sapere cosa sta facendo dal tipo di se è una società che non è quotata sapete che per qualsiasi motivo è collaboro con una società che è quotata può essere interessante cercare i documenti della società quotata col nome dell'altra società e poter trovare delle cose vorrei fare qualche esempio poi altre cose prima di fare questo esempio un altro esempio invece sono un altro livello che sono invece gli analisti finanziari quindi sono serie di banche e così via che fanno analisi di mercato sempre sulle cose equitate quindi o facendo quello che dicevo io quindi ricerca nei documenti depositati la sec o perché fanno dell'interview con i dirigenti o perché vanno a conferenze e così via fanno dei report per gli investitori perché guardate questa società fa delle cose interessanti e vai è interessante acquistare le azioni in questa società questo per esempio è una società abbastanza nota edison e dice per esempio questa società Rovella Therapeutics alla inlicensed pattern rights for a monoclonal antibody and targets di KK1 per TID quindi la società non depositato licenziato non lo so se non l'ho verificato magari l'ho anche messo su un press release però questo se una società quotata se una società quotata attraverso questo tipo di canali non sono informali sono formali ma indiretti diciamo si possono avere informazioni oppure che questa società ha un patented nanomancellular formulation ok quindi ha dei brevetti che comunque per esempio questa qui Neuron è una società italiana protected by state parties which aspire non earlier than 2027 quindi addirittura possono mettere in questo documenti pubblici quindi potete verificare fate non è niente di fate sul numero di marzo di questa newsletter di questa società di investimenti trovate queste informazioni quindi protected quindi per noi del 2027 questo è il sito del Edgar il nome l'acronimo della banca dati della SEC americana dove fa tutto questo tipo di ricerche che non è facile ma la cosa che è per me splendida da un certo punto di vista è che tutti questi documenti che sono depositati sono in HTML ok è un obbligo quindi non c'è neanche la scusa del famoso PDF non leggibile e il problema è che è caotico è caotico bisogna conoscere che tutti questi tutto la SEC è tutta una classificazione di documenti e quindi se si vuole cercare certe cose bisogna cercare in certe categorie piuttosto che in altre allora si può anche andare un po' così come ho fatto io un po' a caso è per esempio questa è una comunicazione scritta documenti di modelli di Beyond Tech di Moderna che loro a fine dicembre a inizio 2021 indicano tutta la serie di informazioni questo qui è l'annual report sono 300 passapagine di annual report in PDF e HTML e quindi indicano certe cose sono John Treon by Beyond Tech e la famosa università di Mainz che avete già sentito che ha fatto i soldi con Beyond Tech perché avevano questa collaborazione storica e che qual è la scadenza quali sono i filings quindi sono tutta una serie di dettagli e moderno è la stessa cosa perché Beyond Tech è in tedesca ma è quotata anche negli Stati Uniti quindi ci sono questo tipo di situazioni per cui anche la società europea può essere quotata negli Stati Uniti e quindi già quindi qui stiamo parlando è stato pubblicato appunto il 31 marzo 26 febbraio che è stato reso pubblico questo annual report per l'anno 2020 quindi già dicono ma non dicono raccolta mettono anche pure il patent filing number qualche volta però dicono ok abbiamo fatto file in Argentina files from January through May 2020 quindi e questo a marzo 2020 nessuno lo sapeva perché tutte le pubblicazioni moderne brevettuali sono state pubblicate tra appunto tra agosto quindi praticamente sei mesi dopo ok quindi c'è una quantità di informati addirittura che la cosa più complicata per certe società è capire per un prodotto sul mercato qual è perché spesso hanno pubblicato un sacco di domande brevetto se esattamente qual è quella che copre veramente il prodotto come sul mercato questo è un esercizio appunto nel fritto di un tuo perete estremamente complicato loro US patent il limito claims lippi tomano particles è stato è sofficio la mia parte filed in october 2015 ti dicono state attenzione che questo prodotto la mia base brevettuale tra tutto quello che ho depositato negli ultimi dieci anni è questo e quindi se trovate qualcosa di moderna che è depositato in ottobre 2015 poi qualcosa c'è qualche problema quello che mettono in filed invece che published insomma è vero un attimo anche perché c'è qualche volta che c'è sempre copy paste magari chi lo fa non è sempre addentro le cose quindi confonde un file con published però questo è il tipo di informazioni adesso questo è un esempio che mi forse è facile da reggere era la famosa questo qui è veramente sono gli exhibit di un contratto gli exhibit il contesto di un amended reinstate development agreement quindi trovate l'agreement tra due società loro hanno la possibilità di mettere tutta una serie di informazioni in omissis ok però avete la struttura dell'agreement ricercabile in dettaglio quindi quali sono patent enforcement poi appunto i famosi qualcuno parlava di quali sono le percentuali di là di quelle sono le classiche cose che sono messe in omissis non bisogna esagerare però fa capire qual è la storia della collaborazione questo qui è un agreement tra Sanofi e Biontech questo che è per l'uso della tecnologia Biontech in ambito farmaci oncologici e quindi avete tutto lo storico poi non c'è tutto però avete in questo caso sono due società quotate ma poteva essere forse l'esempio adesso appunto il famoso esempio che volevo fare negli ultimi 20 minuti volevo citare due strutture che hanno in teoria nessuno interesse hanno interesse a delle attività tipo virtuale ma che però hanno come dire sono società sono strutture di ricerca genetton francese forse conoscete avete sentito perché è la struttura che poi una delle prime strutture in Europa che ha portato sul mercato comunque disponibile delle terapie geniche per alcune malattie rare questo teletone lo conoscete e tra l'altro per dire io ho trovato questo testo qui in un grant famoso fa ricerca con google advanced search nel sito teletone qui dice chiaramente undertakes la policy che teletone teletone funded research project newly protected e poi colloca la provvedibilità e con l'informazione che chi riceve il grant deve dare quindi la maniera in cui il grant viene concesso la persona può essere identifica se viene se gli concedono un grant e conoscete la tal persona per x motivi il fatto che facciano facciano delle cose provvedibili via teletone può essere nota giusto per finire quello che dicevo prima della ricerca e questo è il caso di genetone questo qui è una società con cui genetone collabora e quindi il famoso della società non è quotata negli Stati Uniti però ovviamente visto che la società con cui collabora che si chiama Audentes Patent License Agreement sulle cose che sulla collaborazione con genetone faccia quindi se voi cercate genetone in sec troverete dei documenti perché se la società ha collaborato scusate questo per finire quindi io compilo la domanda di prevetto in quel momento fino all'approvazione tipo anche se io non so mando avanti in contemporanea il paper beh quello che dicevo prima cioè questi 12 mesi e 18 mesi quindi 12 mesi puoi ancora modificarla è finanziare tra i 12 e i 18 non puoi modificarla ma puoi depositare altre cose perché ne fu parlorata dopo i 18 mesi è parlorata quello che dicevo l'esempio del ricercatore americano quindi i primi dati interessanti la provisional i dati diventano si arricchiscono comincio a fare un grant o un grant o un app o un congresso ma nel frattempo mi proteggo facendo una seconda una seconda priorità più completa è un gioco quindi io quando già faccio la prima priorità loro fanno un paio alta la data della prima priorità loro cioè loro hanno anche il 15 aprile hanno depositato io dico questa proteina può essere prodotta con questa sequenza che fa queste cose ok quindi poi dopo se uno non ha in fase di sviluppo ma è già tutto fatto uno non ha problemi esatto però diciamo il discorso se tu hai già tutto fatto e per 12 mesi non hai niente da modificare qualche domanda me la porrei ok che forse hai aspettato un po' troppo capisci ah questo è il mio e quindi da un lato i posti più tardi è la protezione più lunga durata cioè c'è un incontro eh dei posti più tardi quindi è una durata più lunga però se tu hai aspettato sei mesi e c'è qualcuno che ha depositato o pubblicato un articolo che può essere utile il famoso gioco dell'A più B che dicevo prima dell'Inventi Step ritardi hai sei mesi in più di protezione ma anche sei mesi in più di prior art quindi è un gioco appunto tra mandatario inventore e eventualmente l'istituzione di capire qual è il buon momento che adesso c'è abbastanza aspettiamo ancora questo esperimento oppure facciamo una provision aspettiamo un esperimento ma ne facciamo loro facciamo due volte e tra tre mesi ne riparliamo se tu entro per esempio al PCT se tu non mandi una lettera sono ancora più sei cinque o sei settimane prima della data pubblicazione che tu ritiri ok sono ancora più qual è la adesso poi forse dipende anche dai paesi no però poniamo il caso che io richiedo un brevetto e non mi viene concesso dopodiché il diciamo l'argomento in 18 mesi non ti viene concesso quasi dopodiché diciamo quello che c'è all'interno del mio brevetto è pubblico se ho capito bene nella richiesta di brevetto la domanda è pubblica quindi non mi conviene diciamo avere una cosa troppo prototipale perché se poi non mi viene accettata per qualsiasi motivo ovviamente prendi un rischio ah beh sì sono d'accordo con te ma questo insisto sull'idea che questi 12 più 6 mesi è un periodo che va sfruttato al massimo o per fare dei miglioramenti magari dopo 12 mesi dici no c'è un problema che abbandona e faccio una nuova perché ho riparto da zero non è ritirato o dipende dai paesi quello che puoi fare per esempio il PCT non so anche non è nel WIPO ha poi fino a 16 mesi è un numero di settimane poi manderanno non lo pubblico abbandono quel punto lì è rimane nei cassetti o meglio nei server del WIPO e nel tuo e basta no però è stato concesso sì diventa nel caso in cui tu in questi 18 mesi forzi e riesci a ottenere come nel caso di caso che ti mostravo prima di Regeneron loro hanno depositato hanno l'OSPTO ha detto importante bisogna fare la ricerca rapidamente di anteriorità e in sei mesi l'hanno concesso in alcuni paesi europei in Italia questo che dicevo prima visto che il PCT ci mette del tempo visto che gli esaminatori europei sono più complicati e così via io voglio avere a Sassur nel mio paese dove il mio competitor principale è attivo ho un brevetto concesso allora investo dico all'esaminatore voglio un brevetto concesso più rovinente possibile in Spagna Francia Italia perché le mie attività sono Spagna Francia Italia e l'esaminatore scusate il mandatario fare in modo trovare la giusta soluzione che secondo i diversi paesi è la più attuabile per avere un brevetto concesso ancora prima della pubblicazione dell'applicazione quello che è successo con Regeneron è questo questo in generale c'è l'applicazione pubblicata e poi dopo X mesi o meglio X anni c'è il brevetto concesso loro sono passati dalla totale confidenzialità brevetto concesso in da marzo a settembre quindi è un problema sempre di priorità i costi i costi benefici della scelta fatta del paese in cui si vuole avere una è del tipo di protezione che si vuole avere quindi uno si fa altro calcolo e capisce qual è il cerchio di essere ben consigliati in modo tale di avere un rapporto appunto costi benefici vale la pena avere un brevetto concesso anche se magari non è incompleto oppure no posso comunque depositare qualcosa prima che il brevetto concesso sia pubblicato poi diventa un gioco sofisticato c'è la famosa cosa che avrei visto in pubblicazione di 12-18 mesi ma quello è lo standard ma non è un obbligo puoi far pubblicare prima puoi depositare in nazionale soprattutto il caso del covid visto che la gente la società ha inventato di tutto di più PCT depositati senza priorità veramente tutte le possibili combinazioni si possono vedere nel caso del covid e appunto questo che dicevo appunto qui si parla di società americana dovuto dire che ha dovuto dichiarare non solo dichiararlo ma rendere pubblico il collaborative development agreement torniamo al discorso della società che vi dicevo di Scarpa Italiana che ha messo delle cose relative registrate al tribunale non ricordo più quale città italiana sul proprietà e così via adesso non so vogliamo fare un piccolo test di 10 minuti e un quarto d'ora o o no ditemi voi o volete fare qualcosa invece più avete domande ditemi un po' voi se c'è qualche aspetto che a voi non pare non coperto non chiaro non o non citato ditemi voi no c'è qualcosa che vi è rimasto come un aspetto adesso io qui potete fare se voi mettete in google queste stringhe di ricerca arrivate direttamente come primo come secondo terzo hit alle banche dati poi dopo nell'excel che se non so bene come sarà distribuito poi ci sarà la stringa devo dire l'html completo posso provare allora a fare il sharing adesso allora dove comincio ah aspetta adesso io sono perché ho chiuso no dove è che ah è qui scusate quindi share screen si vede poi ci sono io in mezzo quindi questo qui è la videata di 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 lens quindi voi avete in questa in questa videata una serie di criteri di field scusate una serie di criteri di ricerca adesso vedete qui quanti criteri di ricerca diversi ok una follia cioè non so quanti sono il 90% di questi a voi non ha non è interesse però per esempio posso fare adesso il mio test era volevo fare applicant addirittura quando c'è o non c'è l'applicant name ok questo io metto geneton adesso addirittura mi suggerisce quali sono le le sono note tanto c'è due tre poi addirittura vi suggerisce qualcosa che magari vi sbagliate con la geneton ma è genetor o geneton quello è un cognome adesso invece faccio valente vengo così published adesso qui prima c'era io posso mettere 2012 primo ottobre a a oggi ok quindi 12 ottobre adesso faccio una cosa veramente così basica e vedo qui adesso adesso io non ho fatto tutte le allora qui avete un sort un sort by relevance potete fare tutti i sort possibili immaginare quindi data di diposito tutti insomma un certo numero cited by pattern count quali sono i più citati dai brevetti earliest priority date extended file quindi quanti extended family size quindi se una domanda di brevetto ha un più alto numero di family size vuol dire che hanno speso più soldi per fare procedure in 30 paesi quindi ha qualche importanza adesso io faccio e quello che poi adesso faccio new west adesso su cui per esempio questo qui è un quindi io non lo limito qui sono tutti dei filtri e quindi avete per riuscite a vedere per paese per paese per autorità quindi per esempio io mi mi soffermo european wipe United States ok io qui non sto mettendo nessun tipo di informazione tecnica giusto date nome della società sono un tot e qui andando più in basso c'è document types quindi avete patent application granted patents e search report quindi che il search report sarà pubblicato con l'application perché hanno ci hanno messo tempo e non hanno ritardato a due a tre risparmio tutte le varie definizioni se il search report è pubblicato non viene fatto in tempo per la pubblicazione viene fatto due tre volte anche sei mesi dopo pubblicazione del pct ma viene pubblicato la tre che è solamente il search report e quindi qui per esempio io voglio fare solo granted per esempio ok ovviamente se sono solo granted visto che wipe non fa granted patents non ci sarà nessun wipe ma giusto per avere così un dataset ok e quindi qui avete tutta una serie poi applicant come vedete geneton è una struttura che dà fondi o collabora con una serie di strutture di ricerca accademiche di ricerca accademiche o private francesi e in alcuni casi le università sono co-applicant per cui vedete io non ho cercato per CNRS voi lo conoscete CNRS il CNR francese collegato quindi ci sono alcuni poi ci sono alcuni inventori che sono anche applicant negli Stati Uniti ci sono anche delle università americane perché per qualsiasi motivo avevano qualche forma di collaborazione e quindi potete anche vedere in questa maniera quindi anche senza sapere quali sono i partner privilegiati o comunque dal suo sito geneton vedete lavoriamo con questo questo e quest'altro però a livello brevettuale ci sono alcune società o alcune università meno a livello di brevetti concessi per esempio se io rifaccio la ricerca questo è un livello di brevetti concessi quindi brevetti relativamente più più vecchi diciamo adesso io clear adesso faccio solo per esempio solo i PCT per esempio quindi jurisdiction so perché ho fatto anche Cina faccio solo PCT fine ok quindi sono fino a pubblicato quindi penso di recente che pubblico un certo numero di domande brevetto quindi gli applicant INSERM che prima non c'era Università Sorbonne assistizione di istituto di biologie quindi vedete che anche a livello di partnership nel tempo possono anche evolvere magari alcune partners che sono anziane che sono solo con PCT però non hanno dato nessun brevetto quindi non c'è un follow up nei brevetti in cui c'è qualcun altro allora lì vuol dire che c'è un interesse in teoria più accentuato a collaborare comunque a portare avanti il lavoro è quello che adesso io prendo il primo proprio in maniera totalmente random quindi è quello che vi dicevo qualche minuto fa quindi qui avete sulla destra il document preview del PCT che potete aprire in una pagina separata o fare il download quindi opening il tab e quindi voi qui avete il pdf qui avete l'indirizzo html questo è recente quindi magari non è ricercabile ma quindi qui avete voi potete spedire questo indirizzo o ottenere i vostri archivi file questo indirizzo o potete invece cercare l'html quindi in questo caso sono solo due claims sono andato molto veramente fortuna e qui avete la ricerca quindi poi avete full text essendo una domanda di ricerca molto una domanda di brevetto molto molto recente non ha non ha altri membri al massimo avrà solo un francese e poi in questo caso non so se ci sono ma penso che ci siano ah ecco in questo caso c'è solo una sequenza quello che è interessante non so se vedete tutti o no perché allora in questo caso non so perché hanno deciso di mettere l'intera sequenza di un vettore 4000 e passa basi artificial non solo occurrence anticipa il sistema quali sono eventualmente quali altri brevetti precedenti domande brevetti documenti virtuali concessi non concessi quello che è stati citati quindi per esempio io sto andando veramente non ho preparato in Italia queste cose che faccio due families twelve documents quindi come questo gioco vi dicevo dodici alla fine sono due families quindi vi ho vado queste due families rischio che siano delle domande di brevetto della stessa no perché sono una solamente scusate qualcosa che non va ah one referencing claims ah ecco che in realtà fanno del riferimento alle sequenze nelle claims o solo nel testo quindi va molto lontano quindi queste two families dove esserci due families che appaiono ok quindi queste two families che sono tu contattamente c'è una solo una domanda di brevetto del 2020 quindi tu perché ce n'è una che è quella pubblicata più una precedente quindi questa sequenza era già in questo donna di brevetto che si vede dal titolo chiaramente che è sul lavoro su questo tipo di malattie da lungo tempo quindi quasi un'ovvietà che vengono citati questa è più anziana quindi del 2020 è indicato che ci sono otto sequenze che ci sono adesso se io entro in questa quindi in questo caso visto che le read more vedete read more questa è una di queste famose domande di brevetto che sono i francesi sono abbastanza terribili per questo se lo dico ma questa cosa di che tutti vogliono il loro nome come co-applicante in qualcosa che i francesi sono sei in questi casi sono talmente tanti che pure l'ENS li ha messi separatamente quindi ok siamo resi sì sì quindi vedete conto che quindi possono correspandere a livello di di claims quindi io ho qui il titolo l'avstat chiaramente ha fatto un errore perché non è intero però il titolo è qui in alto e poi avete tutto il previo e quindi poi tutte le citation l'ultima cosa che mostro quindi non cito questo che sono ovviamente è caduto male però qui potete avere poi tutto il link quindi alla parte sequenze quindi se vado alle sequenze quelle sequenze avete tutte le sequenze quindi qui qui si può andare proseguire per andare a trovare quella sequenza poi se io clicco sopra adesso io non faccio quello da 4.000 ma sono tutte dei mostri 1.000 5.000 e quindi poi qui avete quindi questa è la sequenza qui c'è il e perché non me la fa e quindi io con questo questo è il codice del documento sequence view 7 e quindi io posso ottenere poi posso ricercare proteina pasta sequence download copy return quindi questo mi interesserà adesso purtroppo devo veramente questo per dire che nessuno l'ha vista vi veramente vi c'è la possibilità di fare anche iscrizione a pagamento per certe funzioni ma ve lo ve lo evito cioè ci sono delle funzioni in più però per quello che fate voi quello che era non a pagamento vi registrate come ricercatori è ampiamente sufficiente per quello che è il vostro la vostra utilità io farei in modo di terminare qua se non vi dispiace comunque torno giusto alla dove è che è quindi nel voglio tornare posso tornare qui vuole uscire qui non so perché non riesco star video rename volevo uscire e ritornare sulla presentazione come come posso fare perché stop share ok e quindi posso tornare giusto l'ultima slide poi parto quindi questo lo troverete nel pdf che vi sarà distribuito ok quindi è il falciola scivris.be il mio email link ed intro a te luca falciola bastels patents se avete domande o così spiegazioni o qualche input a livello di queste cose potete contattarmi aspetta un po' o o o o o Grazie.